Buonasera, buonasera, ben ritrovati ancora insieme per aggiornarvi sulla situazione del Covid-19, del coronavirus, da una parte i dati che sono in leggero miglioramento quindi ci fanno in qualche modo essere un pochino più ottimisti, poi dall'altra c'è la disputa tra il governo e la regione Lombardia per quanto riguarda i decreti, le ordinanze, cosa resta chiuso e cosa resta aperto e poi anche l'ipotesi di un nuovo farmaco, sapete quello che arriva in teoria dal Giappone verrà sperimentato, aumenteranno i tamponi così dice la regione Lombardia, insomma tante notizie che vi diamo questa sera come al solito in questa fase emergenziale senza ospiti, lo facciamo con tanti collegamenti e lo faremo io e Jacopo, ormai siete abituati a questa nuova formula, buonasera Jacopo dall'altro studio Buonasera, buonasera a te e a tutti i nostri telespettatori Allora vediamo subito i dati, abbiamo la nostra ormai solita lavagna che ci mostra anche l'incremento, il decremento di alcune voci, andiamo di tre giorni in tre giorni quindi però poi vediamo anche come era andata nei giorni precedenti per capire come è l'andamento Allora oggi i positivi sono 28.761, sono dati lombardi questi, sono cresciuti di 1.555, ieri erano cresciuti di 1.691 mentre l'altro ieri erano cresciuti del doppio di 3.251 Questo ci fa ben sperare perché come vedete i positivi c'è questa continua diminuzione quindi vuol dire un miglioramento I deceduti sono aumentati di 320, ieri erano aumentati di 361, l'altro ieri erano aumentati moltissimo di 546 La terapia intensiva è abbastanza costante, stabile perché oggi è aumentata di 41 accessi, ieri di 49, l'altro giorno era aumentata di 43 Jacopo lascio a te la voce ricoverati perché è quella più bella di oggi I ricoverati non in terapia intensiva sono 9.266, ieri erano 9.439 C'è un meno che è un inedito totale rispetto a tutta questa emergenza di questo mese che abbiamo passato a leggere i dati E' l'unica volta che c'è un dato col meno, quindi ci sono meno persone ricoverate I tamponi, ecco qua è la voce, noi qui in redazione oggi c'è due ore che ci ragioniamo sui tamponi I tamponi sono 73.000 rotti, in particolare oggi ne hanno fatti 2.644, questo è il più rispetto a ieri Ieri ne avevano fatti 3.868, l'altro ieri ne avevano fatti 9.566 Questo ci fa capire che sono diminuiti radicalmente i tamponi Ora, è vero che ci sono meno positivi, ma ci sono anche meno tamponi Io non voglio spegnere le speranze di chi ci sta guardando Voglio dare un dato corretto però, ci sono meno tamponi effettuati Bisogna capire, Jacopo, se questi meno tamponi effettuati è perché ci sono meno accessi al pronto soccorso O perché non lo so Gli accessi al pronto soccorso sono diminuiti lievemente, ha detto Gallera, in varie parti della regione Non ha detto che ci sia stato un crollo, però una diminuzione lieve di pressione sui pronto soccorsi c'è stata Il fatto che ci siano così meno tamponi rispetto a due giorni fa È ovvio che è un dato che va letto insieme a quello dei contagiati Mi pare che ci sia comunque una connessione tra i due dati, gioco forza Gioco forza, quindi diminuendo i tamponi diminuiscono i positivi Ripeto, non voglio spegnere le speranze di nessuno Però va letto in questo modo Quindi quel giorno che c'erano stati tantissimi positivi, 3.251, che ci siamo spaventati tutti Avevano fatto 9.000 rotti i tamponi Quindi diciamo che c'è un terzo di positivi rispetto ai tamponi effettuati Oggi rispetto ai tamponi effettuati abbiamo la metà Quindi non lo so se si può parlare di miglioramento Ripeto, bisognerebbe capire meglio, leggere meglio la proporzionalità tra tamponi e positivi Guardiamo Milano, Milano leggi lo tu, Jacopo Che riguarda sia Milano provincia sia Milano città Anche qui c'è un miglioramento e c'è da dire Sì sì, ormai questo è un trend vero Nel senso che siamo arrivati in provincia a 5.326 positivi Sono 230 in più di ieri Erano aumentati di 424 rispetto all'altro ieri Addirittura 868, quel dato che ci aveva spaventato tanto Ripeto, sempre era quel famoso giorno che sono stati fatti 9.000 tamponi Sì sì, poi lì devi anche capire quanti ne hanno fatti a Milano Quanti ne hanno fatti altrove eccetera Però c'è un trend qui abbastanza importante Si nota insomma È ovvio anche questo va letto con i tamponi Ma è un trend forse anche migliore rispetto ai contagi Se vai a vedere Perché i contagi sono diminuiti Ma in maniera meno esponenziale Tra virgolette rispetto a quanto sono diminuiti a Milano Esatto, vuol dire che a Milano Che era la nostra paura La paura che esplodesse l'epidemia a Milano A Milano in questo momento sembra abbastanza sotto controllo Il problema dei tamponi lo affronteremo questa sera Perché ci collegheremo anche con il Veneto Perché in Veneto la politica di Zaia Del governatore Zaia è quello di fare tamponi a tutti Un po' come è stato fatto in Corea In Lombardia al momento non è così Perché in Lombardia viene fatto il tampone solo a chi viene portato al pronto soccorso A chi viene portato in ospedale Chi si cura a casa viene seguito dai medici Ma non subisce il tampone in qualche modo Quindi oggi Gallera e Fontana, poi lo sentiremo dalla loro voce Hanno detto invece che anche la regione di Lombardia Vuole aumentare la tamponatura, diciamo così, di chi non sta bene Volevi dire qualcosa Jacopo? Vedo che ti avvicini al microfono No, in realtà il fatto non è che vogliono aumentare la tamponatura di chi non sta bene Almeno quello che hanno detto oggi, soprattutto l'ha detto Gallera È che vuole aumentare la tamponatura mirata su determinate categorie E poi lo sentiremo, ma non è una questione di malati a casa Il tampone verrà fatto ai malati a casa nel momento in cui verrà notato un peggioramento Comunque, non è che lo fanno a casa così Poi questa sera ci colleghiamo anche con un guarito Con una persona che a casa se l'è smazzata da solo Ed è guarito Quindi vogliamo anche dare anche in questo senso un messaggio di speranza Non ci sono solo le terapie intensive Ci sono anche quelli che fortunatamente prendono la malattia Ma riescono a vincerla da soli Allora, il problema però, a prescindere dai dati Il problema è che da ieri, anzi dall'altro ieri Che noi ci arrabbattiamo Tra quante ordinanze abbiamo in mano? Jacopo, io qua ho... Ma io non le conto neanche più Perché mi annoio a contarle Il decreto di Conte, il Presidente del Consiglio che l'altra sera ce l'ha annunciato alle 23.25 E ovviamente poi l'ha firmato alle 19 del giorno dopo Due ordinanze del Ministero della Salute fatte a distanza di due giorni, una e l'altra E poi abbiamo due ordinanze della Regione Lombardia Anche qui a distanza di due giorni, più o meno Anzi no, di un giorno lì Nel senso che sabato e poi domenica sera l'altra Esatto, e quindi con tutta questa roba Non abbiamo ben capito cosa rimane aperto, cosa rimane chiuso E oggi sono andata in un negozio di animali Per comprare il cibo per il mio cagnolino E ho chiesto, ah siete aperti E mi hanno detto, boh, noi non sappiamo se dobbiamo stare aperti o chiusi Ce lo diranno, intanto così ho fatto provviste Comunque, comunque La disputa tra la Regione e il Governo È su cosa deve stare chiuso e cosa deve stare aperto L'ordinanza di Fontana, poi dopo sentiamo le sue parole È più restrittiva di quella del Governo Mi dici, ci dici in estrema sintesi Che cosa chiude Fontana che non ha chiuso il Governo? Ma in sostanza chiude gli studi professionali Chiude, 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 chiude Gli alberghi che però poi nell'ordinanza di ieri ha più o meno riaperto Credo in funzione del fatto che poi verranno utilizzati anche come strutture sanitarie Di accompagnamento Tipo il Michelangelo a Milano Esatto, di accompagnamento al termine del percorso di malattie e guarigioni I cantieri edili? Soprattutto i cantieri edili E i mercati all'aperto? Perché quelli il Governo non li aveva chiusi? Sì, i mercati all'aperto li ha sprangati completamente anche rispetto all'alimentare Cosa che in realtà molti comuni della Regione Lombardia Avevano già provato a fare scontrandosi con non tanto la Regione Quanto il decreto del Presidente del Consiglio Che non li chiudeva con richieste di fare ordinanze successive che li riaprissero Cioè è successo di tutto sostanzialmente sui mercati all'aperto A livello comunale anche, non soltanto regionale Poi è arrivata l'ordinanza regionale e sono chiusi insomma E sono chiusi Il problema sono le attività industriali Le aziende, quello che Conte l'altra sera aveva annunciato in maniera grave Dicendo dobbiamo fermare il Paese In realtà ci sono 95 voci, mi pare Sì, 95, qualcuno dice 100, non so le altre 5 dove le trovate Però noi ne abbiamo contate 95 95 voci che restano aperte Sostanzialmente è stato detto che circa il 35% delle attività industriali e commerciali Che restano aperte Conte aveva detto lo faccio perché sono servizi essenziali Ma ci sono arrivate anche molte critiche perché alcuni reputano alcune di queste voci Non così essenziali E proprio per questo i sindacati hanno deciso di fare uno sciopero il 25% Poi tra poco ci collegheremo anche proprio con il nostro amico, il sindacalista della FIOM Mirko Rota Che ci dirà perché vogliono fare uno sciopero, perché uno sciopero virtuale Perché ovviamente non andranno in manifestazione Qualcuno ha detto che il governo ha ceduto alle pressioni di Confindustria Corretto Jacopo? Questo è quello che... Quello che hai raccontato in realtà anche una nota che è arrivata alla Palazzo Chigi ieri Perché ricordiamo Conte l'altro ieri sera quando ha fatto quell'intervento su Facebook a Riti Unificate Aveva detto abbiamo lavorato tutto il pomeriggio e tutta la sera per trovare il modo di compilare questa lista Facendo credere che la lista fosse pronta Poi a un certo punto ieri verso le 18 di ieri sera è arrivata una nota, uno spiffero da Palazzo Chigi Che diceva abbiamo dovuto lavorare ancora per la lista perché in realtà non era chiusa O quantomeno sono arrivate pressioni da parte di Confindustria Ma soprattutto sono arrivate richieste da determinati settori di avere chiaro il motivo per cui non venivano considerati essenziali Questo è quello che ci hanno raccontato da Roma Poi è ovvio che tutti hanno letto questo come una pressione da parte di Confindustria, Piccole e Medie Imprese Anche se Patuanelli, il ministro del sviluppo economico ha detto non è vero, noi non abbiamo ceduto nessuna pressione Pressione ovviamente si è difeso in qualche modo Sì perché in realtà loro dicono quella è la lista giusta di attività essenziali Poi tu vai a leggere magari ci sono quelli che producono Ce l'ho qua Ecco quelli che producono dei manufatti o dei prodotti in gomma E uno gli va a chiedere ma perché E lui ti risponde perché l'ha fatto sostanzialmente Perché le guarnizioni dei macchinari agricoli Chi diavolo me le dà se chiediamo quelle lì Beh c'ha ragione E ho capito ma allora è tutto essenziale alla fine Se vai a vedere Ce n'è una che è quella dello spago Eccolo qua Fabbricazione di spago, corde, funi e reti E anche qua evidentemente lo spago in certe... non lo so Forse se lo leggiamo noi non capiamo perché No no infatti noi non lo capiamo sicuro Molte voci sembrano stonare Poi in realtà uno te lo dice come ti ha detto delle guarnizioni E tu dici effettivamente come hai fatto tu Effettivamente ci sta Sì però effettivamente così sono tantissime le filiere Che sono connesse alle filiere agroalimentari e farmaceutiche Che sono le due fondamentali E poi c'è il problema degli studi professionali Ad esempio su questo Fontana è intervenuto a Gambatesa Chiudendoli mentre il governo li ha lasciati aperti In effetti uno può pensare perché deve stare aperto Lo studio professionale di un architetto in questo momento Chi è che si fa il progetto della casa Io da utente mi viene da pensare questa cosa Poi mi rendo conto che non c'è nessun assembramento Di fronte allo studio dell'architetto Questo è anche vero Però è sempre un movimento per le città Che poteva essere risparmiato Ad esempio i call center Che secondo me sono un rischio di focolaio Perché nei call center tutti quanti siamo abituati A vedere le persone stipate Sì in realtà però c'è comunque All'interno di un call center C'è comunque la regola del metro di distanza Tra le persone che lavorano Non è che se un call center ha le postazioni tutte ravvicinate Dovrà fare in questo periodo una sì, due no Una sì, due no Credo perché altrimenti credo sia fuori legge D'altra parte se uno ha bisogno di parlare Non lo so I call center ormai rispondono su quasi tutti i servizi Quindi mi rendo conto che anche il call center Fa parte poi della filiera Essenziale Ad esempio c'è la riparazione dei telefoni Uno può restare mica senza telefoni Abbiamo scoperto se gli ottici sono aperti? Sinceramente no Perché non l'abbiamo visto lì E non abbiamo capito se gli ottici sono aperti Devo dire che gli ottici erano quelli che premevano per chiudere Perché dicevano Effettivamente loro quando fanno una visita Sono a due centimetri dal naso del cliente Per cui anche loro dicevano Però è un po' una roba particolarmente rischiosa Poi non tutti gli ottici Però una parte li abbiamo sentiti Anche in questi giorni Andando in giro per Milano Per l'internet E alcuni non erano molto convinti di stare aperti Eh sì Perché alcuni hanno chiuso da soli E senza nessuna ordinanza Va bene Allora ci fermiamo E poi ci colleghiamo appunto Con Mirko Rota della FIOM Che ci spiega perché vogliono scendere in piazza virtualmente Insomma perché è stato proclamato questo sciopero Da parte di tutti quei lavoratori Che volevano invece stare a casa A tra poco Allora rieccoci Il governo e la regione Un po' ai ferricorti Per quanto riguarda Cosa lasciare aperto E cosa lasciare chiuso Ma ci sono anche i sindacati Che si sono ribellati al governo Perché alla fine Le chiusure non sono poi Così tante Abbiamo il collegamento via Skype Mirko Rota della FIOM Buonasera Mirko Buonasera Buonasera a tutti voi Allora Perché avete deciso di fare questo sciopero Per mercoledì Giusto? Quindi dopo domani Sì abbiamo deciso di fare questo sciopero Perché le attività industriali Metalmeccaniche Diciamo così Non indispensabili Sono ancora aperte Stanno lavorando Costringono quindi molti lavoratori Che vanno al lavoro con la paura Ad essere presenti Nonostante tutti i divieti Che sono messi Soprattutto in una regione Colpita come la Lombardia E quindi il messaggio Che abbiamo voluto dare È bisogna chiudere E bisogna centellinare Al massimo Le aziende I settori Le attività Da tenere aperto Quindi secondo te È vero che il governo Ha ceduto alle pressioni Di confine d'industria Perché lui Conte si è presentato Davanti a tutti noi Alle 23 e mezza Dicendo Chiudiamo tutto È un momento terribile Il giorno dopo È arrivato questo elenco Che sinceramente Non è così stringente Cioè tu dici Che nelle 24 ore 20 ore Qualcuno gli ha fatto pressioni Ma sicuramente Confindustria Ha fatto delle pressioni Molto forti Nei confronti del governo Basta vedere Oggi Boccia Presidente di Confindustria Che ha detto Non capisco Come mai scioperano Nonostante i morti Nonostante gli ospedali pieni Boccia Presidente di Confindustria Non ha ancora capito Perché i metalmeccanici Non solo i metalmeccanici Hanno questa reazione Perché la situazione È molto grave È meglio chiudere Subito Immediatamente Tantissime attività Per dare Diciamo così Un segnale forte Rispetto a questa emergenza E questa è stata La nostra decisione Confindustria Allo stesso Boccia Sai che ha detto Perderemo 100 miliardi Al mese Quindi Come per dire Noi Il sacrificio Lo facciamo Non è vero Che non facciamo Nessun sacrificio E loro parlano Che sostanzialmente Resta aperto Un 30-35% Di attività industriali Ti risulta Come cifra Come percentuale Corretta? Sì È una percentuale Verosimile È vero Che rischiamo Di perdere 100 miliardi Però tutti i giorni Perdiamo centinaia E centinaia Di morti Tra le due cose Io penso Che dobbiamo dare Diciamo così Maggiore attenzione Ai malati Alle vittime A quello che sta succedendo Perché altrimenti Da questa situazione Non usciremo Usciremo malconci Ripeto Dal punto di vista Medico-sanitario Dal punto di vista Dalle vite delle persone Tutti dovremmo preoccuparci Di questo Anche Confindustria Senti A proposito Delle pressioni Degli industriali Ti chiedo una cosa Che riguarda Bergamo Perché vedendo Le catombe Che è diventata Bergamo Viene da pensare Anche qui Forse magari Sono dei maliziosi Però viene da pensare Perché non è stata fatta Una zona rossa Anche a Bergamo Come è stata fatta A Codogno Perché in qualche modo Non è stata fermata Bergamo Che è stata invece Considerata Come tutto il resto Della Lombardia Anche qui Secondo te Può essere Che ci siano state Dei timori Ci sono stati Dei timori In qualche modo Di indispettire Gli industriali Che alla fine Sono presenti In gran In gran densità Proprio a Bergamo E nei comuni limitrofi Può essere Che sia quello Il motivo Per cui non è stata Fermata Bergamo Non è l'unica ragione Ma è la ragione Che ha pesato tantissimo Basta vedere Che tutte le grandi imprese Bergamasche Che oggi sono chiuse Solo qualche giorno fa Non volevano chiudere Volevano continuare a lavorare Poi si sono resi conto Degli ammalati Lavoratori che non andavano Al lavoro Lavoratori contagiati Dovevano essere messi In quarantena Materiali e forniture Che cominciavano Scasseggiare E quindi sono state Diciamo così Tra virgolette Costrette A chiudere Ma nella realtà Che dicevi tu Nella Bergamasca Ci sono ancora oggi Imprese che non vogliono chiudere Faccio un esempio Una multinazionale Elettromeccanica Produce interruttori Per la Repubblica Ceca Per l'Enel Che non li utilizza immediatamente Per la Russia E non chiude E queste non sono Produzioni indispensabili Però scusami Scusami Mirko Questa azienda Che dici tu Nell'elenco di Conte È dentro o è fuori? È dentro E legittimamente Lei dice Io voglio rimanere aperta E noi diciamo Sì rimani aperta Ma per quelle commesse Perché vanno agli ospedali Che vanno All'industria agroalimentare Che vanno Ai servizi Di pubblica necessità Ma se tu hai una commessa Che va in Repubblica Ceca Oppure che va Alla stessa Enel E che non ha bisogno Immediatamente Quella commessa Ti serve solo Per fare il fatturato E oggi non dobbiamo Pensare al fatturato Ma chi Ovviamente è costretto Ad andare a lavorare In quella situazione E va con la paura assoluta Va bene Ho capito Cosa vuoi dire Io la penso come te Jacopo vuoi fargli una domanda? Ma io volevo chiedere una cosa Rispetto a questi tre giorni Che Conte ha inserito Nel decreto Dicendo Avete tre giorni Per prepararvi A chiudere A chiudere Questo è Le aziende ovviamente Che sono costrette A farlo In realtà Non so se ci vogliono Tutti i dipendenti Per fare operazioni Di chiusura Di una Di un'azienda Di una catena di montaggio O di chissà cos'altro Per cui Che tu sappia In quelle aziende Stanno andando a lavorare Il 100% Di lavoratori lo stesso O hanno già Lasciato a casa Buona parte Di chi può stare a casa Ma no Non c'è più Nessuna azienda Oggi che lavora Salvo le piccole piccole Con il 100% Della forza Perché in Lombardia C'è una situazione Pesante Da diversi giorni C'è anche chi Giustamente Per paura Si mette in malattia E non se la sente Di andare a lavorare Questi tre giorni Dal mio punto di vista Sono state date Per dare Un po' di fiato Alle aziende Nel dire Avete gli impianti Che non si possono fermare Dall'oggi al domani Ma fermateli Avete delle commesse Urgenti Che non possono essere Diciamo così Lasciate a metà Concludetele E poi bisogna però Pensare alla chiusura Penso che sia stato fatto Con questo buon senso Però I tre giorni Devono essere Categorici per tutti Ripeto Anche per quelle imprese Che stanno dentro Il decreto Che hanno i codici A teco Che rispondono A quel decreto Ma fanno delle commesse Che non sono indispensabili Non sono urgenti Si possono anche Rimandare di un mese Questo è il buon senso Che dovrebbero utilizzare Gli imprenditori E speriamo Che lo facciano Approfitto di Mirko Perché ci sono delle domande Che faccio a lui Ad esempio Questo signore Dice Ci sono un ambulante Di Milano Di frutto e verdura Possiamo consegnare La spesa a domicilio Ma le consegne a domicilio Si possono fare E le stanno facendo Per fortuna Perché abbiamo delle persone In casa Che non possono muoversi Quindi questo può farlo Ok Naturalmente Lo deve fare Con tutte le preoccupazioni Certo Con tutte le mascherine Con tutto quello che serve Per potersi muovere E quando si va a contatto Con i clienti È sempre meglio Evitare il contatto diretto A una certa distanza Con le mascherine Ovvio Altra domanda Mia moglie è proprietaria Di una cartoleria Vorrei sapere Se la può vendere Se trova un acquirente Può fare tutto Può anche chiuderla Può fare quello che vuole L'importante è non tenerla aperta E non commerciare Però la può vendere sicuramente Ok Poi chiedono Noi abitiamo a Locate Ma in una frazione Fuori dal paese Se vado a fare la spesa Nel comune vicino Ecco Questa è una disputa Non si può andare In teoria Nell'altro comune A fare la spesa Io l'ho capita così No non si può andare Perché penso che In tutti i comuni Ci sia un luogo O anche più di un luogo Dove fare la spesa Oggi il problema Non è se scegliere Un marchio Rispetto all'altro Oggi bisogna stare vicini A casa E nelle regole Diciamo così Che sono state definite Anche dalla grande distribuzione Per fortuna Anche perché lì Ci sono E dobbiamo dirlo Molte lavoratrici E molti lavoratori Che sono costretti A lavorare E in una situazione Molto ma molto delicata Ok Grazie Mirko Questo collegamento Lo chiudiamo Con questo messaggio Se non chiudono Le aziende Non essenziali Il contagio Continua a diffondersi E i danni economici Saranno enormi Cioè Sta dicendo Questo telespettatore Non solo i danni Per la salute Ma i danni Anche per l'economia Perché Chiaramente Il danno Sarà ancora maggiore Di quello che è Adesso Grazie Mirko Rota Poi ci sentiamo presto Grazie a voi Buona serata Grazie a tutti Allora Io farei una cosa Posso vendere Ah no La domanda era Jacopo Se poteva vendere Materiale di cartoleria Non la cartoleria No Le cartolerie Sono chiuse Mi sembra Le cartolerie Sono chiuse Sì Assolutamente Erano già chiuse prima Sì Erano già chiuse Dal decreto precedente Eh quindi No ecco no Perché lui ha un'edicola E cartoleria Adesso lo capisco Ha un'edicola E cartoleria Lui dice Posso vendere anche Il materiale di cartoleria Detto l'edicola In realtà ci sono Dei supermercati Che non vendono più Articoli che non siano Alimentari Per cui credo Che lui debba Credo che lui Deba vendere I giornali Perché c'è scritto Che deve continuare a venderli Ma non debba vendere I prodotti di cartoleria Poi mi chiedono Quando c'è un caso Di coronavirus In un palazzo Va in quarantena Tutto il palazzo Che io sappia No No Non va in quarantena Tutto il palazzo Però Le persone che abitano Nello stesso appartamento Sì esatto Anche perché Per la privacy Non puoi neanche sapere Che c'è il caso Nel palazzo Esatto E qua mi chiedono Chi è che avvisa Gli altri che abitano Nel palazzo Nessuno Proprio per la privacy Nessuno perché C'è una questione di privacy Molti sono preoccupati Da questa cosa Però la privacy esiste E poi ovviamente Si viene a sapere E quindi poi gira la voce Ne abbiamo già viste molte A Milano E non soltanto Di situazioni di questo tipo In cui poi Viene fuori la preoccupazione Il timore Il terrore Ed è anche difficile Da gestire Anche per gli amministratori Dei condomini Posso garantire Che già ci hanno contattato Comunque Positivi o non positivi Nel proprio palazzo Basta usare le precauzioni E quindi A parte il fatto Che il positivo È in quarantena Non esce Quindi non è che infetta L'ascensore Quindi questo va spiegato Sì no Il problema è che Ovviamente Quando arrivano i sintomi In teoria Era già contagioso Anche prima Due giorni prima Circa Da quello che dice Qualche virologo Sì Il fatto è che Se c'è un positivo In un condominio Secondo me E qualcuno lo fa Non so se lo fanno tutti Ma qualcuno lo fa Sanificare le parti comuni Mi sembra la cosa più logica Poi quello è in quarantena E quindi non esce più E quindi ok Però Sanificare le parti comuni Sempre Lo fanno Sì Sempre E comunque Non schiacciamo Il tasto dell'ascensore Col dito Ma magari usiamo Il guanto Magari usiamo una chiave Cerchiamo di toccare Il meno possibile Le parti comuni E poi se ci laviamo Tanto sempre le mani Non succede niente Quindi non bisogna Neanche fare la caccia All'untore Allora Facciamo così Adesso mandiamo la fascia E poi vediamo Perché ripeto Il governo dice una cosa La regione ne dice un'altra Vediamo Fontana Che ha chiesto Delucidazioni Per capire chi vince Cioè Vince l'ordinanza di Fontana O vince quella del governo Boh Dopo la pubblicità Vediamo Tra poco Allora Due cose Due questioni di battute Che arrivano tanti messaggi Il signore dell'edicola E dice Ma perché io non posso Vendere la cartoleria In certi centri commerciali La vendono Ha ragione Sì perché non sono tutti I centri commerciali Che hanno deciso Di non vendere articoli Che non siano Alimentari Ha ragione Eh ha ragione Sì Bisogna vedere se ha ragione Lui o hanno torto Quelli che vendono La cartoleria Nei centri commerciali Bisognerebbe capire Esatto Certo E poi l'altra cosa Che questo signore Dice incredibile Io da Brescia a Milano Non posso andare Per stare vicino a mia madre Perché mio padre È in fin di vita In ospedale Allora L'ordinanza di Speranza La 2 Che è qua Dice Che non ci si può Spostare da un comune All'altro Salvo che per comprovate Esigenze lavorative Tipo te Jacopo Che abiti in un altro comune Quando vieni a lavorare Puoi farlo Ok O di assoluta urgenza O per motivi di salute Ora se hai il padre In fin di vita È un motivo di urgenza Quindi se Io la leggo così L'ordinanza del ministro Speranza Però dalla regia Mi dicono che in realtà I vigili stanno dicendo di no Anche in casi di morte O di gravi malattie Io sinceramente Non so cosa dire Perché l'ordinanza Dice questa cosa qua Tu Jacopo Ne sai qualcosa più di me? Ma in realtà In realtà Sono le classiche cose Che ancora non si capiscono Del tutto Perché in realtà Poi se vuoi Lo possiamo vedere dopo Però Situazioni di necessità Però spostamenti all'interno Del comune di residenza Per necessità Assoluta urgenza Puoi uscire dal comune In comune diverso Da quello in cui si trovano Salvo che per comprovate Esigenze lavorative Di assoluta urgenza O per motivi di salute? Le situazioni di necessità Sono solo all'interno Del comune di residenza Ad esempio Io leggo di assoluta urgenza Esatto Assoluta urgenza Ti puoi spostare Da un comune all'altro Mentre situazioni di necessità Non è un motivo Per cui tu possa uscire Dal tuo comune Quindi avere il padre Moribondo Non è di urgenza? Non lo so Cioè sinceramente È complicato Per parlare con un vigile Sì Sì Bisogna anche capire Onestamente Come si comportano Nel controllo Perché qua sta scrivendo Una marea di gente Che non capisce Cosa deve fare E quindi Noi vi diamo Le informazioni In base ai decreti Ma anche noi Ne sappiamo Su certe cose Ne sappiamo quanto voi E ad esempio Anche Fontana Non sa Se prevale L'ordinanza regionale Che è più restrittiva O il decreto di Conte Che è meno restrittivo Diciamo così Sentiamo Fontana Su questo Fontana sull'ordinanza Nell'ordinanza della regione Ci sono sicuramente Delle limitazioni Maggiori Su quello Rispetto Al provvedimento Che è stato preso Da Roma Quindi Ci sono dei dubbi Su quale delle due Deba prevalere Io ho già chiesto Un parere All'ufficio legale Ad alcuni giuristi Per avere una risposta E la risposta è stata Che deve prevalere L'ordinanza regionale In ogni caso Perché Ritengo che Si debba Non certamente Su una situazione Come questa Creare Un tipo di conflitto Ho mandato Una nota Formale Al ministro Lamogese Con la quale Ho parlato Prima di mandarmi La richiesta In cui Nota Nella quale Chiedo Che Il ministro Il ministero Esprima il suo parere E ci dica Formalmente Se si deve applicare La mia ordinanza In questo momento Che mi sta dicendo Prevale lo Stato Sì In realtà Le ordinanze Dal punto di vista Sanitario Qualcuno sostiene Ad esempio De Luca Sostiene Che Prevale La Regione Ed effettivamente Le competenze A livello sanitario Sono della Regione In teoria Poi è chiaro Che Nello schema Piramidale Lo Stato Viene prima Delle Regioni E infatti Adesso bisogna vedere Il Viminale Cosa fa Perché finora Il Viminale Ha sempre detto Non fate niente Tramite il ministro Boccia O tramite direttamente Il ministro Lamorgese Non fate niente Che vada oltre Il decreto Perché facciamo noi Però alla fine La Fiera Molti anche comuni Non solo regioni Sono andati oltre E sono stati anche Costretti a tornare indietro In alcuni casi Quindi a questo punto Noi aspettiamo La risposta Del ministro Lamorgese Sì Soprattutto l'aspetta Fontana Credo E intanto Perché noi Siamo lombardo centrici Però in streaming Andiamo in tutta Italia E noi stiamo seguendo Anche come sta gestendo La situazione in Campania Il governatore De Luca E anche lui Sulle questioni Delle ordinanze Ci è andato giù pesante No? Sì perché lui Ha fatto l'ordinanza Vi ricorderete Venerdì Non questo Quello prima ancora Quello prima ancora Aveva fatto l'ordinanza Dicendo Se vi becco a passeggiare Sul lungomare Vi do 14 giorni di quarantena E l'ha scritta l'ordinanza Cioè c'è proprio l'ordinanza Con questo Il problema è che Il venerdì scorso Cioè qualche giorno fa In quei 47 minuti Di messaggio Alla regione Campania Ha detto anche quello Che se vuoi Andiamo a sentire Certo Ascoltiamo De Luca Un ufficiale Ha emesso Quest'ordine di servizio Vi leggo Il primo punto Di quest'ordine di servizio Si devono applicare Era rivolto Alle pattuglie Che uscivano Sui territori Si devono applicare Solo le disposizioni Emanate a livello Nazionale In pratica E a titolo Esemplificativo Non sarà denunciato Chi sta correndo Così pure Non si andrà D'imporre L'isolamento Di 14 giorni Ne si andrà Di informare L'asl Delle trasgressioni Accertate Cioè un ufficiale Di un corpo Delle forze armate Si è permesso Di emettere Quest'ordine di servizio Ovviamente Noi Lo denunceremo All'autorità giudiziaria Colgo l'occasione Per spiegare Anche agli ufficiali Delle forze armate Che l'ordinanza Che fa il presidente Della regione Vale esattamente Quanto l'ordinanza Del governo nazionale E dal punto di vista Della tutela sanitaria Vale di più Chiaro? Cioè Mattiamo in giro Le pattuglie Le forze armate L'ira di Dio Per fare che? Per andare al passeggio Praticamente De Luca dice Quello che dice Fontana Che sulla questione Della salute Vince la regione Sul governo E' questo che stanno dicendo Non solo De Luca dice Che è successo Qualcosa di quel tipo Cioè che Allora L'ufficiale Di un corpo Delle forze armate Non è che Prende iniziative Per i fatti propri Presumo che Segua Anche per una Direttiva del governo Una direttiva Di quello che è E' il suo capo Ecco Per cui deve essere Un ordine in servizio Di questo tipo Ha fatto pensare Ha fatto capire A De Luca Che ci sia stata Una sorta di Imposizione Da parte dello Stato Di dire Voi fate Rispettare Quello che diciamo noi Non quello che dicono Gli altri Allora quindi Come dice Il nostro amico avvocato Che ci sta scrivendo E ci sta dicendo Prevale lo Stato È la stessa cosa Nei limiti Nei limiti in cui sono Delegate Vedremo domani Cosa rispondere Alla Morgese Però no Volevo specificare Che l'ordinanza Di De Luca È un po' più Folcloristica Perché quella Che impone La quarantena A chi A chi era in giro Senza motivo Sul lungomare O altrove Lui ha detto Se vi becco Vi metto In galera Domiciliari Diciamo così Io vi rendo conto Che un'ordinanza Del genere Può anche essere Impugnata Dai Questa forse sì Sì però Alla fine della fiera Lui aveva messo dentro Il fatto di che Non dovevi più correre Che è una roba Che ha scritto Anche Fontana Alla fine Lui forse era stato Ancora più perentorio Essendo lo Stato Indietro Nel senso che poi Ci è arrivato dopo Certo Non faceva applicare L'ordinanza di De Luca Non solo nelle parti Un po' folcloristiche Come dici tu Ma anche in quelle Che onestamente Non vedo Quale fosse il problema Allora qua mi fanno Una serie di domande Io scusate Io non so rispondere Sono separato Posso andare a prendere Mia figlia in un altro comune No Perché non c'è l'urgenza Abbiamo detto Non c'è Questo è un altro Di quei casi Che ovviamente Andrebbero chiariti Perché c'è una marea di gente Che sta chiedendo questa cosa Qualcuno ti risponde di sì Qualcuno ti risponde di no Quindi sarebbe il caso Che magari qualcuno Fosse un po' più chiaro Dall'ordinanza Dall'ordinanza di Speranza Di ieri La risposta dovrebbe essere No Però bisogna capire Quali sono questi casi Le deroghe Quali sono le deroghe Quali sono le deroghe Quali sono questi casi Di Ripeto Di assoluta urgenza Assoluta urgenza Forse per un papà Andare dalla figlia Forse non è assolutamente urgente Non lo so Ho mia mamma allettata E devo tutti i giorni Andare a lavarla Eccetera In un altro comune E questa sì Questa non è urgenza In realtà Accudire la mamma Se non c'è una badante Non c'è un'altra persona Che accudisce Mi sembra che sia A me sembra sì Che sia Almeno nel primo decreto Era sicuramente Prima di questa ordinanza Era sicuramente consentito Questo te lo posso dire Con questa ordinanza Bisogna vedere Se blocca tutto quello Che aveva disposto Il decreto precedente E sostanzialmente Blinda i confini comunali Sono divorziato Mio figlio abita In un altro comune Posso andare a prenderlo Secondo me no Secondo me no Se c'è la mamma Non è assoluta urgenza Perché c'è la mamma Eventualmente Ma sono sempre cose Che però stiamo dicendo Noi secondo me Il problema è che Non dovremmo dire Noi secondo me Dovrebbe esserci qualcuno Che dice alle persone Che sottopongono questo problema Dovrebbe esserci un call center Per questi problemi qui Invece di fare i call center Di altre cose Hai ragione Hai ragione Va bene Allora adesso facciamo così Mandiamo la fascia Poi per dare un messaggio Di speranza Come quello dei tamponi Come il nostro ministro Della salute Come abbiamo Siamo partiti Quei tamponi Che sono Diminuiscono I tamponi positivi Sì diminuiscono Sia i tamponi Sia i positivi Vi raccontiamo La storia Di una persona Che è guarita da sola A casa Con il medico Di famiglia Che monitorava La temperatura Con la febbre La tosse Ma alla fine Ce l'ha fatta Fuori dal covid Quindi ce lo facciamo Raccontare Proprio da lui A tra poco Allora Per dare anche Un messaggio positivo A chi ha paura Di ammalarsi Adesso parliamo Al telefono Con una persona Che si è ammalata E l'ha superata La cosa Adesso ci racconta Senza andare in ospedale Ci racconta Come è andata Abbiamo Leonardo Al telefono Non diciamo il cognome Buonasera Leonardo Ciao Buonasera a tutti Ciao Grazie Noi ci conosciamo Da tantissimi anni Quindi evitiamo Di fare la pantomima Di darci del lei Ci chiamiamo del tu Direttamente Allora Io la storia la so Però vorrei che la sapessero Anche i nostri amici Innanzitutto Come stai adesso? Adesso sto bene Nel senso che Non sono pienamente guarito Ho ancora un po' di tosse E certamente Non sono al massimo Della forma Però Se devo riguardare indietro Rispetto a una decina Di giorni fa Sono felice Del mio attuale Stato di salute Allora Dieci giorni fa Cosa è successo? Come ti sei accorto? Cioè Quali sono stati I primi sintomi? Allora Premettiamo che Io non sono stato tamponato Quindi magari Parliamo solamente Di una super influenza Il primo sintomo Che ho avuto È stato Domenica Sette Ho cominciato A sentire freddo Sì Poi dopo Abbiamo cominciato A misurare la temperatura E la temperatura È passata Molto rapidamente Da 37,4 A 38,5 Tale è rimasta Praticamente Per otto giorni Nonostante Prendessi La tachipidina Cioè Non te la abbassava Di niente? Si abbassava 38,1 Mai Mai al di sotto Ok Tu hai chiamato Il tuo medico di base O hai chiamato Il 112 Cioè Qual è stata la procedura? Noi Non abbiamo chiamato Dico noi Perché c'era anche La mia compagna Con me Ecco Infatti Non volevo entrare Nella tua privacy C'è anche una compagna Noi per un po' Non abbiamo chiamato Nessuno Perché Comunque L'unico vero sintomo Forte Era la febbre Avevamo poca tosse Avevamo poca tosse Respiravo Tutto sommato Abbastanza bene E quindi Non c'era Un allarme Ben preciso Poi la domenica Sono un po' peggiorato La temperatura Era un pochino aumentata A quel punto Il lunedì mattina Abbiamo chiamato Il 112 Sì Il 112 Ci ha fatto una prima Breve intervista La prima cosa Di cui ci sono sincerati Era se ero in grado Di parlare E di dire Quelli che erano I miei sintomi Sì E A quel punto Spiegato Quello che avevamo Evidentemente Non era una situazione Particolarmente urgente Non avevi problemi Di respirazione No Avevo piccoli Problemi di respirazione Solo Dopo la doccia Perché avendo freddo Facevo la doccia Molto calda E a quel punto Poi non stavo bene Per due o tre minuti Sì Ok E il 112 Quindi cosa ti ha detto Di fare? Il 112 Ci ha detto Di aspettare Che ci avrebbero Ricontattato Ci ha chiesto Tutte le informazioni Relative A dove abitavamo Il numero di citofono Il numero di telefono E quindi noi Ci aspettavamo Che sarebbero poi Venuti Di persona Sì Invece Successivamente Ci hanno richiamato Di nuovo Questa volta Il 118 Si sono presentati Come 118 E Mi hanno fatto Un ulteriore Triage telefonico Sì Ok Quindi in quello Sono stati efficienti E a quel punto Cosa abbiamo detto Di fare? Hanno detto Di continuare a monitorare La temperatura Di avvertire Il nostro medico Di base E di rimanere In isolamento domiciliare Per 14 giorni Ok Ma hanno tracciato Anche i contatti Cioè vi hanno chiesto Se avevate avuto Dei contatti Con i vostri genitori I vostri Sorella Fratello Cioè vi hanno chiesto Se c'era qualcuno Carentato Entrato in contatto Con voi O quello Non è stato Un argomento toccato No Di fatto Non è stato Un argomento toccato Hanno chiesto Se convivevo E hanno detto Anche alla mia convivente Di considerarsi In isolamento domiciliare Ok Quindi noi siamo Tutte ore In isolamento domiciliare Seppure ci sentiamo meglio E lo saremmo Come tali Fino a lunedì prossimo E ce ne abbiamo detto Perché il vero problema Del tampone Non è tanto A mio modo di vedere Sapere Se si ha il coronavirus O un'altra malattia Sì È il sapere Fra una settimana Se saremo guariti O no Esatto Come fanno loro Come fanno A dire che siete guariti Noi al momento Stiamo mandando La temperatura Al nostro medico Di base Non stiamo Facendo altro Ci sentiamo meglio Fisicamente Ciò non significa Che siamo guariti E non sappiamo Quali saranno I tempi Di leggenza Certo Perché Prima di farvi uscire Devono darvi una diagnosi Di tampone negativo Giusto? Ma Non ci hanno detto nulla Nel merito Quindi Non lo sappiamo Possiamo Supporre Che magari Fra una settimana Ci chiamino E ci dicano Ci chiedano qualcosa Al momento Al momento Però al momento Vi hanno detto Lasciati Lasciati da soli Con questo isolamento Domiciliare Ma scusami Loro vi hanno anche detto Chiamate la TS O vi hanno proprio Consegnato al vostro Medico di famiglia No In realtà Ci hanno lasciato Un numero Della TS Da chiamare Io Io Ci ho Sinceramente Provato 5 6 7 volte Non sono mai riuscito A Parlare con nessuno Perché dicevano Che le linee erano Sovraccariche E quindi Poi facevano Cadere la telefonata A un certo punto Ho rinunciato Certo Però per fortuna Voi avete un medico Di base bravo Che è riuscito A seguirvi In maniera Mi sembra presente Abbiamo la dottoressa Che con regolarità Ci ha chiesto Di mandare Le misurazioni Della febbre Ci ha detto Di prendere La tachipirina Dove si superasse Una certa temperatura In questo caso 38 e mezzo Sì E la tosse Poi è aumentata Oppure no Perché quello Che emerge Sempre che c'è Questo sintomo Della tosse violenta La tosse è aumentata Dopo che è scesa La temperatura E adesso Sta venendo Un po' meno Quindi prima Prima la temperatura Poi la tosse Scusa Prima la temperatura Poi la tosse Prima la temperatura Poi la tosse Sì Per un periodo Quando parlavo Mi veniva molta tosse Adesso come senti Ne ho Molta meno Bevendo E magari succhiando Una caramella Riesco a non avere Colpi di tosse Molto forti Certo Comunque Tanto per capire Quello che io Quello che mi lascia Un po' perplessa È che Devono farvi un tampone Per verificare Che siete negativi A un certo punto Dovranno pur farvelo Cioè Non ve l'hanno fatto In entrata Ma in uscita Dovrebbe essere fatto Sennò come fanno A stabilire Che non siete più Tra virgolette Contagiosi Soprattutto come facciamo A stabilirlo noi Perché teoricamente Con la scadenza Dell'isolamento domiciliare Noi potremmo Che ne so Andare a fare la spesa Come minimo Quando è che scade L'isolamento domiciliare? Beh Noi l'abbiamo cominciato Lunedì 15 Quindi teoricamente O domenica 28 O lunedì 29 Quindi In teoria Se loro non vi dicono niente Voi Ufficialmente Siete liberi di uscire Formalmente Rispettando il decreto Le emergenze E le esigenze Di massima urgenza Dovessimo andare a fare la spesa Teoricamente Dovremmo sentirci liberi Di poterlo fare Eh sì E come avete fatto In queste due settimane? Vi hanno aiutato Amici e parenti? Beh Avevamo delle discrete riserve Mia mamma È andata un paio di volte A fare la spesa Per conto nostro E ve la lasciava Ci sono offerti Di aiutarci Perché Per fortuna Non siamo da soli Ecco esatto No no certo E la tua compagna È stata Meno Come te Peggio o meglio? Come la Lei Lei l'ha affrontata meglio Ha sempre avuto Meno Meno febbre di me Io avevo 38 e mezzo Lei magari aveva 37 e due Forse ha avuto un massimo A 37 e mezzo E oggettivamente È sempre stata più forte di me Mi ha sempre badato Mi ha sempre curato Ha sempre cucinato Ha fatto le pulizie Decisamente una capacità diversa Di affrontare la malattia E noi ragazze siamo più forti? Eh Sembra che colpisca meno Meno violentamente Quanto meno Comunque in ogni caso L'avete superata Abbastanza bene Voglio dire Certo la febbre 38 e mezzo Non è piacevole Però rispetto a certe scene Che si vedono negli ospedali Voglio dire È andata bene Noi siamo stati fortunati Non abbiamo mai avuto Quella Quella Degenerazione Polmonare E difficoltà a respirare Che invece Purtroppo a volte È capitata Ad altre persone E quindi siamo riusciti A rimanere in casa Tranquilli Mantenendo Mantenendo sotto controllo La situazione Certo Jacopo vuoi fare una domanda? Ma io Non ho capito una cosa O meglio Ho capito che Voi sapete Di aver avuto Il Covid-19 O comunque Non lo sapete Perché non avete fatto il tampone Però Lo desumete Dal fatto che vi abbiano messo In isolamento domiciliare Anche dai sintomi In realtà Si desume più che altro Da come è stata la malattia Dalla tipologia di febbre Da quei momenti Nei quali magari Un pochino Facevo fatica io A respirare dopo la doccia Dal fatto che comunque La temperatura Non è ancora tornata normale L'addegenza Sta durando Tantissimi giorni Quindi La supposizione Che sia qualcosa Di diverso Da un'influenza L'abbiamo avuta Dal supporre Che non sia Covid Ad avere la certezza Che sia Covid Ci passa un tampone Ci passa un tampone Esatto Ci cambia poco Saperlo No no Però il problema È che è ovvio Che se non vi hanno fatto Il tampone all'ingresso Presumo che il tampone All'uscita Non sia fattibile Nel senso che I tamponati Devono essere poi ritamponati Per confermare La guarigione Ma chi non è stato tamponato Per una questione Che uno può dire logica Poi ovviamente Se discutiamo In realtà Avrebbero dovuto farvi il tampone Per capire Se eravate positivi o meno Diventa illogica Però Non avendo fatto il primo Non fate l'ultimo Comunque sta scrivendo Un signore Dice Buonasera Stessa situazione Del signore in onda Visitato dal medico di base Visitato E poi monitorato Telefonicamente Respinto dal numero verde Della regione Sono tantissime le persone Che se la smazzano A casa da soli E poi c'è chi è Oggi Gallera Diceva Che il 50% Non hanno proprio problemi Sì la superano brillantemente Credo che Leonardo Non faccia parte Di questo 50% Perché aver avuto la febbra 38 e mezzo Non è proprio brillante Però in ogni caso Insomma Ce la state facendo da soli E sono tantissimi Quelli così Ah un altro Stessa situazione Anche io e mio marito Tutti questi però Scusate Adesso faccio un po' Di scena televisiva Tutti questi Non sono contati Non sono qua Non sono positivi Non sappiamo se poi saremmo contati Oppure no Perché comunque Il 112 Ci ha intervistato Detto questo Sinceramente Essere contati Cambia poco È più la gioia Dello stare meglio E del non aver avuto Patologie Ulteriori Certo Del fatto di essere contati O non contati No però Scusami Leo Gallera Ogni giorno Da anche l'elenco Di quelli che sono In isolamento domiciliare Può essere Che voi Avendo fatto la segnalazione Al 112 Siate in quel gruppo lì Capito Il gruppo Può essere Che siamo In isolamento domiciliare Certo Può essere Adesso magari Lo recuperiamo Il dato di questi giorni Dell'isolamento domiciliare Perché può essere Che la vostra categoria Sia quella Cioè Non positivi accertati Ma isolati Sicuramente Loro sanno perfettamente Dove siamo E cosa abbiamo avuto Entrare o meno Nei conteggi Questo Questo non lo sappiamo Va bene Io Vabbè In bocca al lupo Chiaramente Però poi dopo Vogliamo sapere Come va a finire Perché Speriamo che migliori Sì Che miglia Certo Ma mi sembra Che siate già In uscita Sicuramente Se saremmo tamponati In uscita Farò in modo Di fartelo sapere Certo Noi ci sentiamo No adesso Svegliamo questo segreto Che noi ci conosciamo Da circa vent'anni Forse di più Non lo so Sì sì Siamo amici da tanto Siamo amici da tanto E quindi Ci tengo a saperlo In ogni caso Va bene Saluti anche Alla compagna Misteriosa Che non abbiamo detto Il nome Perché non so Se vuole che si sappia Comunque saluti anche a lei Noi ragazzi Siamo più forti Magari ci aggiorniamo La prossima settimana E vediamo come va Volentieri Buona serata Ciao Leo Ciao 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 E allora C'è anche chi La supera così Quindi noi Ripeto Vogliamo dare anche Qualche messaggio Di speranza Mandiamo una fascia E poi ci colleghiamo Col medico Perché gli chiediamo Un parere anche Su queste Su queste guarigioni Così a casa Da soli E poi gli chiediamo Anche come funziona La mascherina Perché ogni giorno Ci sono nuove leggende Sulle mascherine A tra poco Ho fatto questo collegamento Telefonico Con una persona Che è guarita Almeno quasi guarita Che ha superato Il covid A casa Da solo Con la moglie E stanno arrivando Tantissimi messaggi Di persone Che hanno vissuto La stessa situazione Anch'io e mia moglie Per 15 giorni A noi non hanno fatto Il tampone È stata con la febbre Per 10 giorni Ci hanno detto Di stare a casa E c'è questa sorta Un po' di abbandono Di sensazione Di essere abbandonati Dalle istituzioni Poi ripeto C'è chi ha anche Più coraggio Che quindi Se la cava Anche senza grossi problemi C'è chi si sente Veramente abbandonata Seconda anche Dei sintomi che ha Siamo con un altro medico Il dottor Alberto Schiavone Buonasera Medico d'ontoiatra Esperto di malattie infettive Buonasera Alberto Ben ritrovato Buonasera a tutti Allora queste vicende Sono un collegato via Skype Mi scuserete Ma non sono molto esperto Scusate Io continuo a leggere Di queste storie Che arrivano Stessa situazione Non abbiamo contattato Non siamo riusciti A contattare numeri verdi Sono Giuseppe da Piacenza A cui funziona così Sintomi simili Ci lasciano a casa Alberto risulta anche a te Sono tantissimi Allora le persone malate Che non vengono conteggiate Eh beh sì Questo purtroppo Nelle epidemie Succede Quindi sfortunatamente Abbiamo questo tipo Di conto Ma c'è un conto Che invece Purtroppo È È abbastanza concreto Ed è quello Delle persone Che perdiamo Quindi Però oggi C'è il dato positivo Del fatto Che ci sono Per la prima volta I ricoverati C'è un segno meno Perché abbiamo Meno 173 persone Sì Anche la curva Sta crescendo Meno velocemente Però è presto Per essere ottimisti Assolutamente Assolutamente Senti Io ti chiederei Due cose Questa sera Una riguardo Alle mascherine Allora Abbiamo fatto una clip No spieghiamo di nuovo Perché è fondamentale Io vedo Allora oggi Ho visto una persona Con lo scottex Davanti alla faccia Volevo fargli la foto Ma mi sembrava Poco rispettoso Lo scottex Non lo so Aveva dei cordini Qualcosa Che lo legavano Alle orecchie E beh L'italiano S'industria L'italiano Il problema è che I dispositivi di protezione Individuali Sembrano una tecnologia Povera a noi Perché l'abbiamo sempre Delegata a paesi asiatici Alla Cina Così Ma in realtà Non è una tecnologia Scarsa Le mascherine chirurgiche Sono fatte in un certo modo E devono essere fatte così Per proteggere Gli altri da noi Ovviamente Per proteggere Allora aspetta Fermati Mandiamo le immagini Tu ci puoi guardare Hai la tv davanti? No Purtroppo no Accidenti Allora le mascherine FFP2 FFP3 Che sono quelle più Quelle col filtro Quelle col filtro Ecco le stiamo vedendo adesso Queste qua Quando vanno Per quanto tempo? Chi e come vanno usate? Allora Queste hanno Una capacità di filtraggio Maggiore Delle altre Anche in entrata Però non ti coprono Al 100% Dal virus Assolutamente Questi dispositivi Devono essere utilizzati Dagli operatori sanitari E dalle persone Che si confrontano Che sono Diciamo Più in prima linea Attenzione Perché come Tutte le mascherine Tutte Tranne Casi eccezionali Diciamo Sono dispositivi Buono uso Cosa succede? Quella valvola che vedete Ha dentro un filtro Un filtro a carboni attivi Per la maggior parte Questi carboni assorbono Assorbono in entrata Filtrano l'aria E la filtrano anche in uscita Il problema è che dopo 8-9 ore Ovviamente Come ogni filtro Si satura E la mascherina Non può più filtrare In entrata Ci dà lo stesso La protezione Ma in uscita Non può più filtrare Quindi il filtro Va cambiato Bisogna cambiarlo Quindi bisogna essere Degli esperti del settore Oppure va cambiata L'intera mascherina E se io me la metto Due giorni di fila Che cosa faccio? Quindi qual è il problema? Tu per il livello Delle 9 ore Poi tu potresti emettere Delle sostanze sgradevoli Della mascherina Perché il filtro a carboni attivi Non può più filtrarle E ascoltami Se io sono positiva E mi metto quella maschera E la metto anche il giorno dopo Infetto gli altri? No Questo no Ah ok Una Diciamo Sopravalutazione del problema Assolutamente no Questo no Diciamo che non mi aiuta più Però E mi protegge anche meno Ti aiuta più È un dispositivo monouso E come tale È una tecnologia Che va rispettata Cioè la devi usare Secondo le specifica tecniche Ok Allora Adesso ti faccio vedere le altre Cioè tu non le vedi Ma chi ci guarda le vede Quelle cosiddette chirurgiche Che sono alla fine della clip Questo oppure anche la foto dopo Allora Adesso circola questa voce Che alcune di queste mascherine chirurgiche Come quella che stiamo facendo vedere Possono essere riutilizzate Essendo disinfettate in qualche modo Usando magari il gel Quello che usiamo per le mani O qualcosa del genere Ti risulta? No Allora Io non vedo la mascherina Ma se la mascherina chirurgica È quella che uso io Quando faccio chirurgia È una tecnologia tristratica Che va Anche quella È a tempo Ovviamente Anche quella è monouso La puoi usare Un certo numero di ore Ma poi Ovviamente Appena Si bagna Diciamo Perde moltissimo Della sua capacità di filtraggio E quindi Assolutamente no Poi adesso Il problema Tu hai il telefonino sotto mano Usiamo la tecnologia Hai il tuo cellulare sotto mano Sì Ti ho mandato la foto Che noi abbiamo mandato Adesso in onda Aspetta Ecco Sì sì Questa è proprio quella che uso io Esattamente E vale quello che ti ho detto Cioè la possiamo usare Un giorno solo La puoi usare Un certo numero di ore Attenzione Se tu per esempio La usi per andare a fare la spesa Te la metti un'ora sola Per capire Due ore Non so quanto tu stai al supermarket Poco Ultimamente pochissimo Bravissima Meno ci stai Meglio è Ecco Se tu la usi un'ora Ecco Poi la metti via Ovviamente Poi la puoi riutilizzare ancora Magari il giorno dopo Un'altra ora Però Non è che Puoi utilizzarla per tanto tempo Però il giorno dopo Se la metto ancora per un'ora La devo disinfettare? Ma no 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 Assolutamente No Assolutamente no Non ti preoccupare Basta che la riponi In una busta sigillata Eh però scusami Se è stata all'aperto E c'è arrivato il virus dall'esterno Non è che si appiccica E poi mi entra dentro? No no È filtrata Non ti preoccupare È filtrata Il problema è che se tu sei Davanti a un altro Che invece Ti starnutisce Ad osso Ecco Quella non ti protegge Neanche un po' Ok ok No ma io volevo capire Il riutilizzo Quindi tu Quante ore in totale Quella chirurgica Quindi? Allora Naturalmente dipende Dal suo utilizzo Ovviamente Perché dipende Che utilizzo ne fai Però sicuramente Un quattro ore Potrebbe reggere Ah non quattro giorni Quattro ore No ma no Assolutamente No 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 Assolutamente Quattro ore E non esiste Che venga pulita Col disinfettante No Quelle che vengono pulite O lavate Col disinfettante Sono mascherine Diverse Che hanno Un certo grado Di impermeabilità Diciamo che Molte ditte italiane Stanno riconvertendo Cercando di mantenere Diciamo Le specifiche tecnologiche Di queste mascherine Perché non ce ne sono In giro Questo è il vero problema E quindi Quelle possono essere Disinfettate Quelle ne hanno bisogno Perché non essendo Porosa come la mascherina Chirurgica Non intrappolano I microbi dentro Capito? E quindi Ne hanno bisogno Nel riutilizzo Però anche lì Il riutilizzo Deve essere sempre Moderato Magari lo puoi utilizzare Una o due volte Poi basta Ok Ok va bene Sei stato chiarissimo Ti ringrazio Altri due domande rapide Perché ho altri due collegamenti Siamo in ritardo La prima L'Avigan Questo nuovo farmaco Di cui inizierà Probabilmente La sperimentazione Anche in Lombardia Tu ci credi? Ma allora Qui non è quello Che credo io Quello che ci dice La scienza Cerchiamo di essere Brevissimo Il Falapiravir Il Falapiravir Che è l'Avigar È un farmaco Che esiste Nel 1999 Non è una scoperta Eccezionale Non è stato accettato Secondo gli standard Dell'Organizzazione Mondiale della Sanità Però c'è Un'emergenza C'è stata un'emergenza Mi sembra Nel 2014 O nel 2004 Non mi ricordo Non ti toccare la faccia Per l'ebola Ma io non mi sono Lava tre mani Per l'ebola L'hanno utilizzato Ora Qual è il discorso Hanno fatto Una dichiarazione etica È un farmaco Giapponese Che non è utilizzato Ma si conosce I cinesi L'hanno utilizzato Per loro E a loro Ha dato Diciamo Dei risultati Adesso Noi sappiamo Che girano Perché io Mi chiedo spesso Ma perché la gente Crede a tutte queste cose Così E mi sono dato Delle risposte Nel senso che Secondo me E la gente Ha molta paura E certo Però il fatto Che venga sperimentato È una buona cosa Viene sperimentato Perché Proprio perché Le persone Chiedono a forte voce Credono che esiste Il farmaco Eccezionale Ma in Giappone Ha dato dei risultati Soltanto su casi lievi C'è un motivo Scientifico Perché dà Dei risultati Su casi lievi Perché lui Inibisce la polimerasi In maniera selettiva Te la faccio breve Per non andare Nel caso Sì esatto Questo farmaco Che è un antivirale Ma viene usato Come antinfluenzale È un cecchino Spara A un virus Alla volta Ok Non è una mitragliatrice Che distrugge Quindi funziona bene Quindi funziona bene Quando la carica virale È bassa Infatti Quando questo Nei virus Della febbre gialla Nei virus Dove è stato usato Nelle virus Influenzali Funziona molto bene Perché queste persone Appena hanno pochi sintomi Danno Appena hanno pochi virus Danno subito Dei sintomi Si dà Il nostro virus Invece Non dà i sintomi E addirittura Gli asintomatici Nella fase finale Della incubazione Possono contagiare Gli altri Perché hanno già Una carica Enevatissima Di virus Quindi O lo prendi Per fortuna Nei casi molto lievi E funziona Ma nei casi avanzati Non ci sono rilievi Assolutamente Lo dicono i giapponesi Stensi Non si presta All'uso clinico L'ultima cosa Adesso tra poco Ci posso sperimentare tutto No 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 Certo Ascoltami Adesso poi dopo di te Ci colleghiamo Con un consigliere regionale Del Veneto Perché in Veneto Stanno usando Una politica diversa Cioè fanno tanti tamponi Molti più di quelli Che facciamo qua Un tuo parere medico Sull'utilizzo del tampone In 30 secondi Questo tampone Non è adatto Per larghi screening Perché rischia Di dare Molti risultati falsati Deve essere utilizzato Con soggetti Sospetti sintomatici Sarebbe bello Avere un tampone Di quel tipo lì Però Non ce l'abbiamo Deve essere fatto Alle persone Sospette sintomatiche Alle persone Che sono molto esposte Tipo non so I sanitari Ecco però I sanitari Tu sei d'accordo Che andrebbe fatto Sui sanitari Andrebbe fatto Perché i sanitari Come vedi A proposito Delle protezioni Dei dispositivi Individuali Nonostante li vedete Con tutti questi Camici Caschi Bancherine Si infettano Abbiamo avuto 3500 casi Mi sembra Infezioni Quindi come vedete I dispositivi Sono Ma loro Correrebbe un enorme rischio Se tu non localizzi Un infetto sanitario Poi quello Può infettare Gli altri pazienti Come una persona Oggi comunque Gallera Ha annunciato Che verranno fatti I tamponi Molto di più Anche ai sanitari Speriamo che lo facciano Sul serio Perché è una categoria Non sto parlando Solo dei medici Naturalmente Scusami Alberto Devo chiuderti Però devo farti Se Jacopo Vuole farti fare una domanda Gliela facciamo fare No no Ma io sono Ecco Quello che ha detto Sui tamponi Ha chiarito A livello Scientifico Diciamo così Il dubbio Che ci poniamo Tutti quanti Da qualche giorno Rispetto alle politiche Di uno Dell'altra regione Grazie Bisogna tornare Alla scienza E lasciare La scienza nazionale Popolare Un po' da parte Ecco Secondo me Bisogna tornare Proprio alla scienza Quella vera Pura Cioè il tampone Si fa a chi ha i sintomi O a chi è esposto Sì Però un problema tecnico Non è una decisione Politica Però scusami Alberto A quel nostro amico Che prima abbiamo sentito Per telefono Che è a casa Da 15 giorni Sospetto il caso Di coronavirus Lì glielo dovevano fare Secondo me Sì Poi dipende anche Quanti tamponi abbiamo Come quante mascherine Se li vanno a comprare Qua c'è una guerra in corso Va bene Grazie Alberto Ci sentiamo presto Scusami Devo chiuderti A presto Ciao Ciao Allora Siamo indietrissimo Però non importa Mandiamo la fascia E poi ci colleghiamo Col Veneto Tra poco Allora Rieccoci Siamo collegati Con il consigliere regionale Della lista Zaia Del Veneto Andiamo fuori Dalla nostra regione Guadagnini Buonasera Sì buonasera Io sono del partito di Venti A dire la verità Sono Scusi Io Sono del partito Il partito di Venti Si chiama il mio partito Ah ok Va bene Mi scusi L'esordio è stato E' stato Va bene E lì è l'informatore Che ci ha messo In collegamento Che ha sbagliato Perché l'informatore Che lei sa chi è Ma aveva detto L'ista Zaia Quindi è colpa sua Adesso poi ce la prendiamo Con lui Va bene Allora come funzionano I tamponi Il Veneto Perché noi abbiamo visto Vediamo Zaia Quando lo è nei telegiornali Che dice Noi vogliamo fare Come la Corea Vogliamo fare i tamponi A tutti E solo in questo modo Si riesce a isolare Il covid Allora in realtà Voi a chi state facendo I tamponi Allora i tamponi Vengono fatti A tutti i sanitari A tutti gli operatori Delle case di riposo E poi A tutte le persone Qualora risultassero Positivi Con i quali Sono entrati In contatto Noi in questo momento Abbiamo già fatto 55.000 Tamponi In Veneto E abbiamo 4.000 casi Quindi sostanzialmente Ogni positivo Noi abbiamo 10 tamponi Ciò significa Che stiamo cercando Di capire Tutti quelli Che sono entrati In contatto Con persone positive E cerchiamo di Vedere Se a loro volta Sono positivi Oppure no E questa cosa Sta funzionando Abbastanza bene Insomma Quindi Se ad esempio Io sono Telefono E dico Io sto male La febbre La tosse Eccetera Voi cosa fate Venite a casa mia E mi fate il tampone Facciamo conto Che abito a Padova Sì esattamente Poi una volta Verificato Se lei è positiva O negativa Se è negativa Va bene Se è positiva Cerchiamo di ricostruire La mappa Dei suoi contatti Le persone Le persone che le sono state Vicine E andiamo a cercare Anche loro Sì in effetti È un po' come funziona In Corea Come ha fatto in Corea E questa cosa E noi abbiamo Il professor Crisanti Che appunto È ordinario Di virologia E di L'Università Di Padova E ce l'aveva suggerita Fin dall'inizio Cioè il 22 Il 23 Di ottobre Lui aveva Di febbraio Aveva già Suggerito Alla Alla nostra Agenda sanitaria Regionale Di fare in questo modo Abbiamo un po' Tergiversato Perché il ministero Non ci concedeva Di farlo Nel senso che Avremmo dovuto Farlo a nostre spese E poi alla fine Abbiamo deciso Di farlo comunque A nostre spese L'avessimo fatto All'inizio E la situazione Sarebbe ancora migliore Ma voi avete Il personale Che va nelle case A fare i tamponi Perché il problema Forse è anche questo Perché in Lombardia Qui Noi abbiamo Il doppio di abitanti Noi siamo 10 milioni Voi siete 5 milioni Quindi Però in Corea Sono 50 milioni Il problema è Quando si comincia Se si comincia subito I positivi Non sono tanti E si riesce A tenere sotto controllo Il problema Quando si arriva A avere decine Di migliaia di positivi È chiaro Che diventa Praticamente impossibile Farlo È una questione Di tempi Non di abitanti totali Appunto ripeto In Corea Sono 45 milioni Di abitanti L'hanno fatto subito E sono messi In meglio del Veneto Il problema È che ormai Noi siamo in ritardo Perché oggi L'assessore Gallera Ha annunciato Che verranno fatti I tamponi Ad esempio Tutti i tamponi Al personale medico E paramedico Cosa che al momento Non viene fatta E questa anche Potrebbe essere Perché abbiamo Il 13% Del personale sanitario Che è infettato Quindi questo Chiaramente Crea dei problemi enormi Perché poi si moltiplica E diventa esponenziale Il problema È esattamente questo Cioè quando si comincia A farlo Rispetto a quando È partito il focolaio Perché più tardi Si comincia E più difficile Farlo Alla fine È proprio La faccenda è questa Noi Il professor Crisanti Appunto Aveva suggerito Di farlo Il 22 febbraio Con tutti I rientri O Gli ingressi Dalla cina Degli aerei Che appunto Tutta la gente Che tornava Purtroppo Abbiamo aspettato Una decina di giorni E questo Ha peggiorato Abbastanza La faccenda Se avessimo aspettato Un mese Saremmo nelle vostre Condizioni Immagino Sì Il problema Adesso come venirne fuori Perché ripeto Io qua continuo A ricevere messaggi Di gente che è a casa E che è malata E a cui non viene fatto Il tampone Ripeto Perché poi il problema Come dice lei Sono anche tutti i contatti Perché se uno Appunto è positivo Bisognerebbe risalire Ai contatti Che ha avuto Almeno nei due giorni Prima dell'insorgere Della malattia Però questo Qui non succede Da voi mi sembra Che questa cosa succeda È corretto? Sì È corretto Perché noi Siamo partiti Abbastanza per tempo Siamo riusciti Come dire A costarla Prima che le vacche Le voi scappassero Certo Ripeto appunto In Corea Oltre a questo Hanno anche la geolocalizzazione Hanno le app Che possono essere scaricate E quindi Riescono a monitorare Gli spostamenti positivi Andare a vedere Con le tecnologie Cosa hanno fatto E lì La faccenda Funziona ancora meglio Che in Veneto No però Aspetti Aspetti Mi scusi Il positivo In teoria Non si deve spostare Deve starsene chiuso A casa Cosa vuol dire Che monitoro Il suo spostamento Ovviamente Dei giorni precedenti I giorni precedenti Perché sono tutti monitorati Mamma mia Sì certo Qua in Italia Non si potrebbe mai fare Una roba del genere Però bisognerebbe farlo Voglio dire Così te la cavi In 15 giorni In un mese al massimo Se vai dietro Se vai dietro A tutte queste partugne Qui Alla fine Trovi Con infettata 60 persone Della popolazione Con chissà quanti morti E alla fine Ti tocca fare lo stesso Cioè qui Il diritto Alla vita Prevale Sua privacy A un certo punto Se vuoi stelare E far morire Meno gente Devi farlo Bisogna fare delle scelte Poi è tutto anonimo Nessuno va A indagare Quello che ha fatto Una persona No no ma si figuri Io sono d'accordo con lei Io metterei l'esercito Per le strade E farei Jacopo è inutile Che fai così col braccio Io metterei Il militare In tutte le strade E farei una app Per tracciare tutti Perché così almeno La facciamo finita Con sta storia Però Non sono io che decido Eh però Quando uno Capisco che Finché si tratta di numeri È un conto Quando si ha un familiare Che è intubato È un'altra roba Per far capire questa roba Non dovrebbe essere necessario Avere un familiare intubato O addirittura peggio Insomma ecco Questo è Bisogna mettersi nei panni Di quelli Che hanno Questo problema In casa E dei sanitari E voi lo sapete bene Com'è la faccenda Che stanno diventando Non ce la fanno A stare dietro Alla propagazione Del fenomeno Insomma Ci sono dei dati Oggettivi Che dovrebbero Consigliare Prudenza totale Ecco Va bene Jacopo Vuoi fargli una domanda? No Io l'unica roba Che volevo chiedere Come regge Il sistema sanitario lì Perché ogni volta Che Zaia Fa una conferenza stampa Dice che Le cose Non vanno bene E che quindi Bisogna stare molto attenti Perché anche lì Siete in sofferenza Sul sistema sanitario Però Da come Da quello che sento Da lei In realtà L'avete molto arginato Da quello che ho capito Insomma Il problema Ma allora Sono aumentati Anche i posti Terapia intensiva Noi tra l'altro Continuiamo Gran parte Di questi posti Sono occupati Da persone A prescindere Dal coronavirus Quindi il problema È che Non siamo costretti Ancora A fare delle scelte Poi qui Il problema È quello di Prendere dimestichezza Con cosa che significa Questa esponenziale Del fenomeno Si fa presto A mandare La rete fuori controllo Bastano due o tre giorni Di mancato controllo E ti trovi Con le strutture sanitari In sofferenza Quindi Io credo Che Zaia Stia cercando Di Caicare molto Sul messaggio Per evitare Di arrivarci In quella situazione Perché si fa presto Non è che Poi si abbia Tanto tempo Per tornare indietro Adesso La situazione È abbastanza buona Ripeto Poteva essere Molto migliore E da questo punto di vista Lancio Spesso una lancia A fare l'autonomia Perché se avessimo Avuto la possibilità Di arrangiarci Dall'inizio La situazione Avremmo cominciato A gestirla così Dal primo giorno Perché All'università di Palova Ci avevamo detto Di far così Non è stato fatto così Per fortuna Siamo riusciti a farlo Un tempo Ma è stato Un colpo di fortuna La prossima volta Sapremo come fare Cioè qui È meglio Arrangiarci Insomma Certo Qua mi chiedono Quanto costa Un tampone Io non lo so 30 euro 30 euro 30 euro Un tampone E un giorno In terapia intensiva 3000 Va bene Io Guadagnino Grazie per la sua La sua testimonianza Io spero Qua ormai siamo in ritardo Per fare quello che avete fatto voi Però Adesso mi pare che la cura Certo La nostra speranza è quella Grazie Guadagnini Buon lavoro A presto Grazie anche a voi Buonasera Va bene Facciamo che mandiamo la fascia E poi Sentiamo appunto Gallera Che ci promette Che i medici Che verranno fatti Più tamponi E poi ci parla anche Dei medici di base Che devono essere aiutati Proprio A fare in modo Che persone come Il nostro amico Leonardo Che abbiamo sentito prima Vengano aiutati Un po' di più Perché qua Io ricevo Continuano ad arrivare messaggi Di gente che è a casa Ed è abbandonata A tra poco Allora abbiamo sentito La testimonianza in Veneto Dove il metodo Del tampone A tutti i sintomatici E i contatti Dei sintomatici Ha funzionato Per ora Nel senso che L'epidemia è stata In qualche modo Circoscritta Anche in Lombardia Verranno fatti Più tamponi Questo ce lo spiega L'assessore Gallera Che poi ci ha anche Spiegato Come sarà Fortificata Rafforzata La rete Dei medici Di base Che devono assistere Persone come Tutte quelle Che ci stanno Scrivendo Jacopo Tu che l'hai sentito Cosa ascoltiamo Prima? Beh direi che Visto che venivamo Dal Veneto E dai tamponi E dai misteri Dei tamponi E forse Capire che cosa Vuole fare Da adesso in poi Gallera Vediamo cosa Vuole fare Gallera Sui tamponi Noi in regione Lombardia Vogliamo mirare In maniera selettiva Coloro che hanno bisogno I tamponi Lo facciamo Quindi Gli MMG Facciamo i tamponi Cioè i medici Medici generali I pediatri Libera scelta Gli facciamo i tamponi Per metterli in sicurezza Rispetto al lavoro Che dovranno fare Il nostro personale Negli ospedali Gli facciamo i tamponi O meglio Gli prendiamo Da oggi La temperatura A tutti Appena hanno 37,5 Gli mandiamo a fare Il tampone Perché ci teniamo Al nostro personale Sanitario E lo vogliamo Controllare E lo vogliamo Preservare Nel modo migliore Abbiamo anche letto Sui giornali Ho sentito Le notizie Che non solo Non corrispondono Al vero Ma non rendono merito Allo sforzo Che stiamo facendo Tenete conto Che noi fino ad oggi Abbiamo fatto 73 mila tamponi Siamo la regione Che ha fatto Più tamponi In assoluto In tutta Italia Perché poi Ogni tanto Si vanno Le trasmissioni Televisive E' un pochino Sembra che Si deformino Alcuni elementi Siamo la regione Che ha fatto Più tamponi In assoluto In Italia E' anche quella Che ne ha più In magazzino Perché abbiamo 1.800.000 Tamponi In magazzino Quindi i tamponi Non ci mancano Allora In effetti Noi ne abbiamo fatti Oggi Siamo arrivati A tamponi A 73 mila Però c'è da dire Che abbiamo 10 milioni Di abitanti Quindi Non è che proprio Bisogna fare La percentuale Quindi è vero Che siamo la regione Che ne ha fatti di più Ma siamo anche La regione più popolosa Ci sono due problematiche Uno è il tempo In cui Il tempo che ci vuole Per processare Il tampone Quel gergo tecnico È processare il tampone E ci vogliono ore Non è che ci vogliono Due minuti E quelli che Dicono che c'è Il tampone veloce In realtà Da quello che dicono In regione Lombardia Non è un tampone affidabile Cioè ci sono Una marea di falsi positivi Con quella Tipologia di tampone Almeno questo è quello Che oggi ha detto Anche Non mi ricordo Se Caparini o Gallera E questo è uno È uno dei È il primo problema L'altro problema Secondo me È che Se tu dici Da oggi Prendo la temperatura Al personale medico E quando a 37 e mezzo Gli faccio Il tampone A parte che ballano Sempre i due giorni precedenti Perché comunque Se l'hanno preso Manifestano il sintomo Tu gli fai il tampone Sono positivi Ma i due giorni precedenti Hanno infettato l'universo Perché lavorano Ho capito Ma piuttosto di niente Meglio piuttosto Ah no no Certo No no Io sto semplicemente dicendo È meglio farli Ma sarebbe meglio farli Almeno al personale sanitario Non se prendono la febbre Glielo fai Il tampone Glielo fai Come lo fai Ai medici Medicina generale Ammesso che tutto questo Perché in realtà poi Ci sono alcune Abbiamo sentito Dei medici Che sostenevano Che non Non glielo fanno Perché si lamentano Del fatto che non gli viene fatto Il tampone Viene fatto a Dybala Invece di farlo Al medico Eh questa cosa qua È una cosa che non va giù Non va giù Perché a Dybala E a tutta la Juventus Viene fatto il tampone Anche la Juventus femminile V'han detto A proprio tutti quanti Tutti quelli Tutti dipendenti Viene fatto il tampone Perché c'era un calciatore positivo E negli ospedali Io so Di personale paramedico A casa Con la febbre E non fanno il tampone A quelli che erano stati A stretto contatto Cioè è una cosa Che mi fa uscire di testa Non lo so Non mi sembra una cosa Da paese civile Io avrei fatto il tampone E farei il tampone A tutto il personale sanitario Onestamente Per evitare di andare A sparare a zero Sui calciatori L'avrei fatto anche I calciatori Perché forse Sono una delle categorie Che in questo periodo Di emergenza È più a stretto contatto Cioè fisicamente Si toccano più Di tutte le altre persone Che lavorano sostanzialmente Quindi ci può anche stare Che tu decida di farlo Il tampone ai calciatori Va bene Però fallo prima ai medici Questo si Tutta la vita Allora adesso Gallera ha promesso Ha detto da quando Viene fatta questa cosa Beh io ho sentito Un da oggi Che mi ha un po' atterrito Però si Ha detto da oggi Io non so se poi Si è ingarbugliato In realtà Però scusami Lui ha detto Da oggi ai medici Che hanno la febbre Si Da oggi Prendiamo la temperatura A tutti i medici Se quando hanno 37 e mezzo Li mandiamo a fare il tampone Che poi io farei anche 37 e 2 Perché già avere 37 e 1 Non è proprio Ma in realtà Il 37 e mezzo Nasce da quell'idiozia Del decreto Che diceva 37 e mezzo Quando in realtà Tutti quanti poi Dopo un minuto Hanno detto Eh anche 37 e 0 È possibile che sia un sintomo Però hanno scritto 37 e mezzo I lungimiranti Allora qua mi scrivono Se io il tampone Lo voglio farlo Pago quanto voglio Posso farlo La risposta è no Al momento la risposta è no Da quello che sappiamo La risposta è no Anche a pagamento Non si può fare il tampone Cioè questa è una cosa Fai conto che in regione Lombardia C'erano 3 laboratori Che erano adibiti a fare A processare tamponi Siamo arrivati a 22 Cioè non è che non c'è modo Di processare tamponi In maggior numero Forse Bisognerebbe sempre Chiedere a Gallera Perché O comunque A chi gestisce Questi 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 Lavoratori Che comunque sono tanti E li vogliono anche aumentare Cioè non è che non hanno fatto nulla Per fare i tamponi Onestamente I tamponi ai medici Sono la cosa che più stona Secondo me Il fatto di non averli fatti I tamponi ai positivi A casa Tipo Leonardo Si potevano prevedere Però bisogna capire Se è in grado Il sistema sanitario Di andare a fare i tamponi A tutti quelli Che manifestano dei sintomi A casa Perché nell'azio Capendo anche Che è comunque La stagione delle influenze Cioè Non è detto Che sia covid Per forza No certo Quindi vai a fare il tampone Anche a uno Ma no Infatti probabilmente Non lo fai per i primi tre giorni Ma se lo lasci a casa tre giorni Al quarto Continua ad avere Quella febbre strana Che diceva il nostro telespettatore Il nostro amico prima Febbre strana Tosse strana Sensazioni strane Allora quel caso lì Lo devi fare Certo Serve come dici tu Il laboratorio Dove processarlo E serve anche la persona Che fisicamente Vada lì a farglielo Deve essere ben attrezzato Ben coperto Io oggi ho visto la foto Di una amica Dottoressa All'ospedale di Roma Che per coprirsi gli occhi Le fanno mettere La maschera Quella per andare sott'acqua Giuro Perché non hanno gli strumenti Capito? Beh Addirittura ci sono Dei caschi Delle maschere da sub Di una nota Di un noto magazzino Un magazzino Un vendita al dettaglio Catena commerciale Catena Esatto Di sport Che alla fine Hanno convertito Queste maschere da sub In caschi Per la respirazione Perché mancano pure quelli Succede questo Non è che stiamo parlando Di una situazione Di questo tipo Comunque Sentiamo E invece Per quanto riguarda L'assistenza domiciliare Gallera I malati a casa Anche su questo Ha promesso Un cambio di passo Sentiamo Sì Anche di fare i tamponi Ha promesso In realtà Se lo sentiamo bene Qua c'è qualcosa Sentiamo Sentiamo Abbiamo chiesto I medici Di medicina generale Di in qualche modo Svolgere in maniera Diverso il proprio lavoro Cioè quello Di monitorare Tutti i loro pazienti Coloro che hanno Dal raffreddore E i pazienti fragili Stiamo acquistando Un numero molto ampio Di saturimetri E che sono Delle macchinette In cui si infila Un dito Ed ha L'indicazione Di quella che è Il livello di saturazione Dell'ossigeno Nel sangue E quindi Se è Dal 94% In su Vuol dire Che si sta respirando Bene E non ci sono problemi Ma abbiamo Lo stiamo facendo Anche con la telemedicina La regione Sta acquistando 10.000 Tablet O smartphone Che verranno consegnati Ai pazienti Questo succederà Nei prossimi giorni Insomma Appena Li acquisteremo Con un kit Che prevede Un telefonino Che prevede Un saturimetro Un termometro Di quelli Che si mettono Sulla fronte Uno spirometro Un macchinario Per la pressione E così Voi Vi Terrete Controllati Il vostro medico Lo verificherà Su una piattaforma E qualora Emergerà Che i vostri dati Necessita Sono preoccupanti E sarà lo stesso medico Che vi manderà Fare il tampone 10.000 Però Sono pochi Secondo me In base Alle Cioè Lui sta dicendo Che Stanno creando Questi kit Da distribuire Ai malati Giusto A quelli Come Leonardo Sì Ma quindi Serve sempre Qualcuno Che glielo porti Beh ma portargli Lo metti fuori Dalla porta Non è che devi andare Per forza A fare In qualche modo I corrieri Esistono ancora Portano ancora Le cose Quindi non è quello Quello lì si risolve Il problema è L'app Probabilmente Sarà già pronta Perché L'app Oggi Parlavo con Con qualcuno Che Non so se posso dirlo Comunque Parlavo con Una persona In consiglio regionale Che ci sta lavorando Su questa app E mi ha detto Che l'app È quasi pronta Che è un'app Che permetterà Al medico Di famiglia Di verificare I parametri Del Del malato A casa Sì Tutto questo Se i numeri Mantengono Un certo tipo Di ritmo Perché Se un medico Di famiglia Ne ha Non so quanti Che sono In osservazione Tra virgolette Domiciliare Poi Devi trovargli Anche qualcuno Che gli dà una mano Magari Gli specializzanti O quelli Che sono Che sono stati Come dire Hanno saltato L'esame di abilitazione Perché c'era Questa crisi Emergenziale Secondo me Potrebbero fare questo A dare una mano Ai medici di base Perché forse Non sono sufficienti Come numero Anche E vedi qua Mi scrivono Ma io invece Per evitare Di arrivare Al pronto soccorso Non potevo farlo A casa No Non si può Fare a casa E poi In ogni caso Anche se lo sai Devi fare La terapia E quella lì Cioè Questo lo capisco La terapia Finché non hai Problemi respiratori E prendere La tachipirina Non c'è altro Il problema È che forse Se vieni Se vieni monitorato Da un medico Sai prima Se rischi E quindi Devi andare A pronto soccorso Cioè devi andare In ospedale E' a questo che serve Il monitoraggio Non a darti una terapia Perché la terapia Purtroppo non c'è Questo dobbiamo Mettercelo in testa La terapia Al momento È tachipirina Punto Quando diventi grave Allora vai in ospedale In ospedale Ti mettono l'ossigeno Io la dico male Ma è così Nei primi giorni Dell'emergenza C'erano medici di base Che si vestivano Di tutto punto Con i vari dispositivi Di protezione individuale Andavano a domicilio A controllare E poi facevano ricoverare Chiamavano l'ambulanza Allora E facevano andare Al pronto soccorso O comunque ricoverare I pazienti Adesso non ci vanno Neanche più Perché oggettivamente Ce ne sono parecchi Che hanno dovuto fare Isolamento volontario Comunque Una sorta di quarantena Perché avendo comunque Avuto contatti Con questi pazienti Si sono dovuti fermare Per 15 giorni Immaginate se si fermano adesso A parte il fatto Che ce ne sono anche parecchi Che sono fermi Per motivi evidenti Cioè L'hanno preso anche loro E certo Comunque a proposito Di misurare la febbre Prima di mandare la fascia Vi faccio vedere Fuori dal vulcano Mi sembra No gigante Una catena di supermercato Di Sesso San Giovanni Perché nell'ordinanza Della regione Lombardia C'è la misurazione Della febbre Fuori dai supermercati E qui l'hanno fatto Questo è uno Dei primi supermercati Dove Vedete Viene misurata la temperatura Con questo aggeggio Con questa sorta di pistola Che in alcune aziende Dovrebbe È stata raccomandata Anche all'interno Delle aziende E con questa Si misura la temperatura Quindi se ne becchi uno Che a 37,5 Giusto? Non lo fa entrare Sì Adesso credo Si è abbassato A 37,3 È una roba del genere Perché l'ordinanza Cambia anche quello Credo di aver visto Io vorrei capire Qua il metro non c'è Però vabbè No perché ci sono Due tipi di pistola Ah no certo No nel senso La mascherina Che indossa lui È per non Non attaccarlo Agli altri L'altro che è lì davanti Che non ha mascherina Potrebbe tranquillamente Attaccarla lui Benissimo Sì infatti a me non piace Misurata così a distanza Cioè così A vicinanza Ci sono delle pistole Che invece agiscono Più distanta E quindi garantiscono Una sicurezza maggiore Per chi te la misura Cioè in effetti È inutile tenerle persone Distanti Scusa Ambra Falle vedere di nuovo Cioè veramente Non mi ero accorta Vediamo di nuovo le immagini Ma no la coda Allora questo qua Per prendere la temperatura Quanto distanza sarà Un braccio quant'è? Meno di un metro questa Perché poi lo tiene Anche un po' curvo Non ne manca un braccio teso Ok Quindi saranno 70 centimetri? 70 Sì Forse meno anche Non lo so Sì 70 Quindi la distanza di sicurezza Questo poveraccio Che prende le temperature Se fosse al suo posto Sare già ammalata Psicosomatica Dopo aver fatto Sta roba qua Poi però vediamo E quelli che entrano Nel negozio Che sono a distanza L'uno dall'altro Di 2 o 3 metri Giusto? Sì sì La coda ovviamente C'è la distanza Sì si mantengono la distanza No perché voglio dire Adesso Diciamo una cosa Tra di noi Anche nelle aziende Viene suggerito Di metterlo Io Parlando con la sicurezza Della tv Dicevo Ognuno sa la misura da solo Facciamo così Perché Per evitare Che ci sia uno Che ti stia troppo appiccicato Mi sembrava più logico Si prende della carta Si mette intorno alla manopola Si disinfetta Non lo so E ognuno si spara E se la misura Mi sembra più sano La mia idea Di quella del supermercato Non lo so Cosa dite voi Sì però Il supermercato Ha dei numeri Che noi non abbiamo Purtroppo Nel senso Siamo molti meno Insomma Quindi lì Devi essere veloce Non è che puoi dare A tutti la pistolina E poi vedere Cioè c'è l'addetto Dove far l'addetto Non so se esistono pistole Più a distanza Non credo Sì sì esiste Esistono A me hanno detto che esistono Poi bisogna vedere Quelle che Scusate Negli aeroporti Non sono più Adesso cerchiamo qualche immagine Della misurazione Anche negli aeroporti All'estero Secondo me esistono anche Sennò vanifichiamo Tutte le regole Del distanziamento In questo modo Vabbè Allora adesso Facciamo così Ci fermiamo E poi Visto che noi siamo italiani Ci arrangiamo Sempre in vari modi Siamo andati in Veneto Adesso andiamo in Toscana Perché c'è un imprenditore Un artigiano Che ha deciso Di costruirsi Lui le mascherine Ma non solo le costruisce Le fornisce anche ai carabinieri E alla protezione civile Quindi è una persona Che sta facendo Un'azione assolutamente Di solidarietà Umana e civile Pazzesca E ci colleghiamo con lui E vediamo anche le sue mascherine A tra poco Legate prima col Veneto Adesso ci colleghiamo Con la Toscana In particolare con Carrara Con Andrea Tira Che è un artigiano Adesso ce lo racconta lui Che cosa ha fatto Ha deciso di Produrre Delle mascherine Visto che in questo momento È il bene Essenziale Il bene primario Che serve in Italia Sono le mascherine Scarseggiano C'è chi le ricicla C'è chi se le costruisce E lui le fa Proprio Le produce E poi adesso ci racconta Anche a chi le distribuisce Perché questo è il bello Non è solo che le produce Ma anche a chi le produce A chi le distribuisce Intanto lo saluto E lo ringrazio Per essere con noi Andrea Tira Buonasera Buonasera Ci fa vedere Le sue mascherine? Eccola Eccola Allora Mi spieghi Questa sarebbe L'equivalente Di quella chirurgica Sostanzialmente? Più o meno Come forma Più o meno Come le è nata L'idea Di fabbricarle Ecco Ci racconti Un po' Come cosa è successo È successo Che come tutti Non riuscivo a trovarle Andavo in farmacia Ti dicevano Che ormai Non le ricevevano Da tempo Che se anche Fossero arrivate Avevano l'obbligo Di darle agli ospedali Non sentivi altro Che gente Che le cercava Non le trovava E un giorno Della settimana scorsa La mia compagna All'improvviso Mi diceva Perché non le fai tu? Dopo un attimo Di esitazione Ma sì Proviamo Così abbiamo cominciato Con dei pezzi di tessuto Guardando anche qualche tutorial Su internet E abbiamo visto Che si poteva Allora Ci siamo messi Alla ricerca Aspetti 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 che interrompo Andrea Mi scusi Ma lei Prima di questa Emergenza Che cosa faceva Per capire? Ma io Ho una tapezzeria Ok Quindi lei L'entrata Tutti i giorni La cucitura E il nostro pane quotidiano Ok Perfetto Allora Ha guardato qualche tutorial E ha cominciato a farle Sì Prima Ne ho fatte alcune di prova Con dei pezzi di tessuto E ho visto Che si riusciva Quindi Mi sono messo Alla ricerca Del TNT Tessuto Non tessuto Però era introvabile E allora Ho saputo Che si potevano fare Anche con la pelle d'uovo Che è quel tessuto Per chi non lo sapesse Che si usa Per i cuscini In piuma Che è una mussola Di cotone Molto sottile Ma morbida Ma molto resistente Impermeabile E traspirante E quindi Mi sono messo Alla ricerca Dai miei fornitori E Ho preso Una certa quantità Di questa pelle d'uovo Con degli elastici E abbiamo cominciato Abbiamo messo Dei post Su Su facebook E Il riscontro È stato Incredibile Dopo Un'ora Che avevamo messo I post Avevamo 3-400 richieste Che non mi sarei mai Aspettato Una cosa del genere E la cosa Più Più assurda Che non mi aspettavo Che mi hanno contattato Dopo poche ore Appunto La croce bianca Il 118 Per i loro operatori Ecco Quindi E da lì Abbiamo cominciato Lavorando fino a luna di notte E Le prime sono andate a Roma Subito Quindi lei fornisce Gli operatori del 118 Della protezione civile Delle sue mascherine La protezione civile No Però Gli operatori dell'ambulanza Me le hanno chieste Devo nei prossimi giorni Consegnarle Quante ne produce Ogni giorno? Ma guardi Per ora Ne sono Praticamente 3 giorni Che le facciamo Ne abbiamo fatte Per ora Circa 300 E non ne abbiamo più E certo E certo Ecco Noi prima Ci siamo collegati Con un medico Che ci spiegava L'uso corretto Delle mascherine E come le mascherine Chirurgiche Siano sostanzialmente Monouso Cioè Le posso usare Per 4 ore Non di più Magari in 4 giorni diversi Però per un'ora alla volta E che quindi Non sono riutilizzabili Lavandole O rigenerandole In qualche modo Le sue sono la stessa cosa O possono essere riutilizzate? No Le mie si possono lavare In lavatrice Si possono sterilizzare Con alcol Si possono stirare Quindi È chiaro che dopo Alcune ore di utilizzo È bene Pulirle Però lavandole Sono riutilizzabili E questo è fantastico Perché questo vuol dire Che non ne consumo Uno al giorno Ma ne uso una Per un bel po' di giorni È corretto? Si esatto Eh Però questa cosa qua Potrebbe essere Sviluppata in scala Non a livello Lei presumo Che abbia un laboratorio No? Si Un piccolo laboratorio Un piccolo laboratorio Se venisse fatto A livello industriale Ci salviamo tutti Cioè nel senso Che se vengono fornite Su larga scala Mascherini di questo tipo Chiaramente sono Essendo riutilizzabili Hanno un vantaggio enorme Rispetto alle altre Ah beh Certo Certo Ma Poi però Bisognerebbe La precisazione Il fatto che comunque Non c'è il marchio C'è Ovviamente Esatto Il problema Io infatti ho fatto presente Agli operatori Che non sono ovviamente Certificate Mi è stato risposto Che in tempo di guerra Non si può vedere Se sono certificate o meno Certo No questo Questo assolutamente Certo No no però Era il concetto Di dire che Per farlo su larga scala Bisognerebbe Brevettare E fare anche No però anche Nella regione Lombardia La regione Lombardia Ha accettato Delle forniture Di mascherine Prive del marchio C Proprio perché Come diceva Il signor Tira In tempo di guerra Si prende tutto Quindi anche La regione Lombardia Alla fine Ha preso Sta utilizzando Delle forniture Di mascherine Che non hanno Il marchio C Ha chiesto anche Alle sue aziende Come quella del signor Tira Quelle tessili Che magari adesso Sono ferme Di convertirsi In produzione Di mascherine E anche se non c'è il marchio C Chi se ne frega È stato abbastanza chiaro Il vicepresidente Di regione Lombardia Due giorni fa Quando l'ha detto Comunque Lui ci ha Insomma Ci ha dato un'idea Quindi il tessuto Si chiama Pelle d'uovo Pelle d'uovo Sì Ma io non l'avevo Mi scusi La mia ignoranza Nel campo tessile Però io non l'avevo Mai sentito Ma questo tessuto Dove si trova Facciamo anche noi In Lombardia Dove si trova Questo tessuto Pelle d'uovo Noi lo troviamo Dai nostri fornitori Quindi dalle aziende Che producono tessuti Ma lei poi lo tratta Questa Pelle d'uovo O è così com'è? No no È così com'è Noi la semplicemente La tagliamo a misura E la facciamo La piegate? Certo Sì Allora abbiamo capito Cosa possiamo fare Del nostro futuro Dico Alla regia Perché so che In regia L'Ambra è appassionata Del bricolage tessile Se riusciamo a trovare La Pelle d'uovo Le facciamo anche noi Ci ha dato un'idea fantastica Intanto No Complimenti Perché lei Il fatto che fornisce Gli operatori Dell'ambulanza È una cosa Fantastica Quindi complimenti Per l'idea E complimenti Perché le usa A fin di bene Ecco non se le tiene Tutte per sé O per la sua famiglia Perché è questa Anche la cosa importante Anzi noi siamo quelli Che ne abbiamo di meno Perché Perché ve le chiedono tutti Eh sì Non riusciamo a Star dietro alle richieste Addirittura In questi giorni Di restrizione Non sapevo Se potevo lavorare Se potevo spostarmi Ho contattato I carabinieri Qui della stazione Di Avenza Precisamente Il brigadiere Schiattarella E le ho date Anche a loro E tra l'altro Hanno elogiato Questa iniziativa Addirittura Ci hanno Dato la disponibilità A consegnarle A delle persone anziane Che non possono uscire Quindi li ringraziamo Molto ovviamente Di tutto questo Certo Senta Da voi com'è la situazione Nel covid L'epidemia Come sta andando Da voi Non è La situazione Non è grave Come lì In Lombardia Però Nell'ultima settimana È peggiorata Molto anche qua Anche lì Ma e quindi adesso Comunque col decreto Del Consiglio dei Ministri Con le chiusure decise Insomma Siete soddisfatti Del decreto Della presidenza Del Consiglio Ma mi sembra Che ci sia Un po' di confusione Perché Nessuno sa Con precisione Se può lavorare O meno Ecco Quello anche qua Quello anche qua Va bene Jacopo Vuoi chiedergli qualcosa? No Io voglio fargli Un applauso Perché davvero Anche proprio Per quello Che ha detto Il fatto Che fornisca Sia Gli operatori Del pronto soccorso E delle ambulanze Sia i carabinieri Che si sono poi Prodigati Per la consegna È una bellissima storia Che ci ha fatto piacere Raccontare Anche se non è lombarda Arrivano anche dei messaggi Che le fanno i complimenti Signor Tira Dicendo i tempi di carestia Grazie anche alle persone Che si adoperano A fare del bene Quindi lombardi Che ci guardano Che le fanno i complimenti Perché Veramente complimenti Per l'idea E per l'uso Che ne fa Va bene Grazie Grazie a voi Allora Ci fermiamo E poi Andiamo a vedere Un po' la situazione Innanzitutto Vi facciamo vedere Il nuovo padiglione Dell'ospedale San Raffaele Dopo la pubblicità Perché sapete Che con la donazione Di Fedes E la Ferragni Oggi Sono arrivati I primi malati E poi vediamo Anche come sta andando Nel resto del mondo Perché non c'è Solo la Lombardia A tra poco Allora Io veramente faccio Ho già cercato La pelle d'uovo Per chi ci guarda Da casa Che ha visto Questo nostro amico Che a Carrara In Toscana Ha ideato Le mascherine Fai da te Con la pelle d'uovo Esiste La pelle d'uovo E questo tessuto Che veniva usato Per fare i coordinati Da lettino Per i bambini Una specie di mussola Il problema è che Adesso è difficile Trovarla Perché è tutto chiuso Conte Potevi lasciare aperto Almeno i negozi Di pelle d'uovo Visto che ha lasciato Aperto ben altro Jacopo Cos'hai trovato Vedo che stai cercando Qualcosa Perché ti vedo In preview Cosa stai cercando No Ho trovato Quello che mi avevi chiesto tu Che cosa Ti avevo chiesto Le immagini Come si misura La temperatura A distanza Vediamo C'è questo tablet Qui Non so se lo vedi È una sorta di tablet E qui stanno A distanza Veramente Poi quelli che la misurano Molto vicini Sì Sono bardati In questo modo Giusto per capire Questi sono ancora Più vicini Rispetto a quello Del supermercato Però Abbiamo trovato Questo tablet A distanza Tra l'altro E qui in Italia In un aeroporto Come dicevi tu E si sta Molto lontani Come vedete Ma più di un metro Abbondantemente Hai il computer Che è tranciato in due Che senso? Devi spostare Il computer Nell'inquadratura Ma è così dall'inizio Però Me ne sono accorta Adesso Comunque Allora Io direi Che quel poveretto Fuori dal vulcano Dal gigante A sesso San Giovanni Secondo me Non è molto regolare Il metodo Con cui sta prendendo La temperatura Però Non lo so Magari sono io Che sono troppo timorosa Ma lo facciamo rivedere A me non sembra Che ci sia La distanza di sicurezza E poi non è bardato Come quelli lì Dell'aeroporto Vedete Cioè A me sembra vicinissimo Non mi sembra corretto Ecco Faccio Denuncio io Che non mi sembra corretto Non so cosa ne pensate voi No Anche a me Però il problema È capire Se questa cosa qui In realtà In realtà Invece Va bene così Cioè io se fossi quello minolini Mi rifiuterei di fare sto lavoro Sono centinaia di persone Che mi arrivano davanti Anche perché molti Sono anche senza mascherina Vabbè Comunque Cos'è successo oggi Al San Raffaele Invece Parliamo di una cosa positiva Al San Raffaele Sempre l'assessore al welfare Giulio Gallera Insieme a A tutti coloro Che hanno collaborato E lavorato Non c'era chi ha trovato i soldi Che come sapete Sono i fedesferragni Diciamo così Con la loro Raccolta fondi Però sono arrivati A concludere i lavori Per la nuova terapia intensiva Del San Raffaele Ne stanno costruendo Una accanto Tra l'altro Nuova Perché ci sono ancora Un po' di soldi Probabilmente E la possibilità Di farlo 14 per adesso I letti di terapia intensiva Già approntati Come vedete Sono 14 Che si vanno ad aggiungere A tutti quelli Che in queste settimane Di emergenza In questo mese di emergenza Sono stati creati È giusto il verbo Creare Effettivamente Dal sistema sanitario Lombardo Che è arrivato A raddoppiare Quei posti letto In terapia intensiva Grazie a Dio Perché altrimenti Essendo prima 750 malcontati Saremmo già Oltre Come ricoverati In terapia intensiva Rispetto Ai letti In questo modo Più o meno Si sta cercando Di reggere Ovviamente È allo stremo delle forze Il sistema sanitario Lombardo Questo è chiaro Ed è stato denunciato Più volte Sia da Fontana Che da Gallera Questo è il bello Che sta succedendo Poi ci sono tutti i dubbi Di cui abbiamo parlato Questa sera Rispetto al resto All'assistenza A domiciliare Ai tamponi A tutto quello Di cui ci siamo occupati Stasera Ci sono altre due cose Che volevo Far dire con voi Prima di salutarci Perché Che sono Che è vero Che noi Abbiamo Non riesco a chiudere Quando apre il Corriere La sera È vero Che noi Abbiamo Il sistema sanitario Il collasso Però ci sono altri paesi Dove si sta peggio Vi faccio vedere La Spagna Queste immagini Scioccanti Di Madrid Perché La Spagna È partita Molto dopo Di noi Ma adesso Credo che abbia Gli stessi Nostri casi Adesso Cerchiamo i dati I spagnoli Però mi sembra Che ci abbiano raggiunto Sono superati E guardate Negli ospedali Di Madrid Cosa succede La gente È sdaiata per terra Cioè addirittura Non Non hanno neanche Delle barrelle Dove metterli E il numero Dei morti Il numero Dei positivi Dei contagiati In Spagna Ce l'hai Ai numeri Sì Sì Dovrebbero essere Allora Sono 462 morti In un giorno Che sono meno Di quelli Tre giorni fa Nostri In realtà Lombardia Tra l'altro Sono 33 mila Contagiati Oltre 2 mila Decessi Ok Noi siamo A 63 mila Contagiati A 6 mila Decessi Sì Quindi non ci hanno Raggiunto Non ci hanno raggiunto Però sono partiti Sono partiti dopo Quindi rischiano Di andare oltre A breve Come abbiamo fatto Noi con la Cina Da un certo punto di vista Possono fare loro Con noi Purtroppo Perché Se c'è sempre qualcuno Che fa peggio di quello Prima Non so come si ferma Questa roba Sinceramente La Gran Bretagna Johnson Che aveva parlato Di immunità di Greggio Aveva detto Aveva partito Con una visione Con una follia Dicendo Intanto ci ammaliamo tutti E così poi diventiamo immuni Io la sintetizzo Ma aveva detto questo Bene da due giorni Che ha cambiato idea Perché ha ordinato Anche lui Il lockdown Quindi Londra è chiusa Tutto chiuso Negozi chiusi Una specie di quarantena Anche per loro Quindi ci sono venuti dietro Nel metodo Anche loro Sì sì Poi loro adesso Sugli anziani Vogliono fare una Qualcosa che va anche Oltre la nostra Di posizione Nel senso che addirittura Le persone Adesso non ho capito Se over 65 Over 75 Sono Non devono più uscire di casa E non lo devono fare Per svariate settimane Svariate Ma io parlavo L'altro giorno Siccome si parla di una guerra Non è come se fossimo in guerra In qualche modo Allora un'idea Poteva anche essere Ormai siamo in ritardo Un'idea poteva essere Anche quella Di chiudere in casa Tutti quelli Sopra una certa età Che poteva essere stabilita Sui 50 Ai 60 Non lo so E i giovani Farli uscire Cioè dividerla Per generazioni Non tutti dentro Tutti fuori Ma come quando C'è la guerra I giovani Vanno in guerra Nel senso che Il giovane Ha più difese immunitarie È più forte Quindi se si ammala È più probabile Cioè i giovani Intendi tutti Tranne quelli che vivono Con i 50 anni Perché ci sono i figli Quelli dovrebbero stare In casa Anche loro No nel senso Quindi c'è un range Tra i 20 Anzi Perché in realtà Noi siamo un po' mammoni Come popolo Quindi c'è gente Anche di 30 anni Che è ancora a casa Che i genitori Quindi non lo so Quanto poteva essere Facile come soluzione L'altra Quindi il Corriere Titola in quel modo Anche la Repubblica Titola con Johnson Che negozi chiusi Tutto a casa E invece L'Afkington Post Titola con i controlli I controlli Multe fino a 2000 euro Perché il governo Sta studiando Possibili Contravvenzioni Quindi E ne arriva un altro decreto Ti avviso Li odio tutti Però a parte questo Questo andrebbe proprio dietro A quello che ha fatto Fontana Perché una delle cose diverse Dell'ordinanza Rispetto al decreto È che Fontana Ha messo le sanzioni Tecuniarie 4-5 mila euro Per assemblamenti Per almeno due persone Non si può stare Più di due persone Insieme per strada Nei parchi Non si può più entrare Chi contravviene Rischia 5 mila euro Di multa Adesso addirittura Il governo appunto Parla di possibili Contravvenzioni Anche molto salate Va bene Io sono d'accordo Farà un'ordinanza Perché se fa un altro decreto Poi magari cominciano a pensare Che abbia il vizio Del decreto Non lo so Anche perché C'è un altro vizio Che è quello di cambiare Il modulo Dell'autocertificazione Te lo stavo chiedendo Te lo stavo chiedendo Vai Eccolo qua Allora E' qua Tac Ne è arrivato un altro Oggi è cambiato Un'altra volta Praticamente è uguale Precedente Però c'è Vedete qui la questione Qui in mezzo Lo spostamento determinato Da E c'è il fatto che Per trasferimenti In comune diverso Ci vuole l'assoluta urgenza Situazione di necessità Per gli spostamenti All'interno Dello stesso comune Sarà cambiato Anche qualcos'altro Ma non mi ricordo Quindi aspetta Se io mi sposto Nel mio comune Quali sono le esigenze? No Non ci sono scritte C'è scritto Situazione di necessità Va bene per Spostamenti all'interno Del proprio comune Tipo il lavoro Comprovate esigenze lavorative Anche tra comune e comune Ovviamente Cioè se no Non potrei venire io A lavorare qua Ok invece però La differenza è che Io mi posso spostare Per spostarti Per spostarti Per spostarti da un comune All'altro A parte le comprovate esigenze Lavorative E i motivi di salute Ci deve essere Un'assoluta urgenza Mentre all'interno Del tuo comune Basta una situazione Di necessità Allora che differenza C'è tra urgenza e necessità? Bella domanda Bella domanda Bella domanda No scusa Io rido qua Non c'è niente da ridere Cioè la differenza Quindi con l'urgenza Posso passare Da un comune all'altro Si deve essere assoluta Però sì Con l'urgenza Con l'urgenza Posso passare Da un comune all'altro Invece con la necessità Posso muovermi All'interno del mio comune Si Quindi andare ad assistere Un genitore anziano È necessità E si può fare Nello stesso comune Probabilmente Beh non lo so Magari è anche assoluta urgenza Perché se non hai nessuno Che accudisce tua madre Che ha 90 anni Credo che possa essere Un'assoluta urgenza Che tu vada Ad accudirla Sì Mentre papà separato Che ci ha scritto prima Probabilmente Quello è più borderline Ribadisco Facciamolo sto call center Conte Un call center Basta un call center Che almeno chiamano tutti E gli dici Cosa possono fare O non possono fare Senti un'altra cosa Che volevo dirvi Due Uno innanzitutto Che in prima pagina Sul Corriere C'è il nostro assessore Gallera Che dice Calano i ricoveri L'abbiamo detto subito E l'assessore dice Ora vanno intensificati Gli sforzi Quindi ah ecco Non abbiamo ancora detto Stasera state a casa Lo ripetiamo eh Va bene che adesso Arrivano pure le multe Però state a casa Proprio perché Se c'è qualche piccolo risultato Dobbiamo andare avanti L'altra cosa Che volevo dirvi Prima di chiudere È che ci sono code di ore Ai traghetti Diretti in Sicilia Vediamo le immagini Alla stazione centrale Perché ieri Ieri Un bel gruppo di milanesi Hanno pensato Che visto che chiudevano le aziende Hanno detto Ma perché non andiamo al sud A tornare dalle nostre famiglie Così magari infettiamo pure il sud E c'è una strage Perché noi qua abbiamo Un sistema sanitario Che bene o male Fa fatica Ma è forte In Sicilia In Campania In Calabria No E poi ecco perché De Luca fa quelle ordinanze Stamattina c'era poca gente Ieri c'era l'assalto ai treni E ci sono le code di ore Ai traghetti Diretti in Sicilia Infatti Musumeci Il governatore siciliano Oggi ha detto Noi non siamo carne da macello Quindi Fermateli Fermate questa gente Che sono altri Irresponsabili Poi io se fosse per me Se partono Non li voglio vedere mai più Però il problema è che Poi vanno a infettare il sud Va bene Non è che non li vuoi vedere mai più Cioè si faranno Quanto meno La cosa che si meriterebbero È farsi una bella quarantena là Ma fatta proprio bene La quarantena di De Luca Che non ti muovi per 14 giorni Stai sdraiato sul letto Non devi neanche alzarti Più o meno E poi quando eventualmente Decidi di tornare qui Magari te ne fai una pure qui Perché magari La situazione Speriamo qui Potrebbe migliorare A un certo punto E magari quando torni Ti ci mette in quarantena Pure qui E non lo so Cioè è quella la situazione Devi comunque tutelare Il sud adesso E il nord di ritorno dopo Magari È certo Ammesso che si riesca A risolvere la situazione Prima qui Visto che abbiamo cominciato Prima qui Insomma Due notizie Prima di chiudere I dati nazionali Protezione civile Continua il calo dei contagi Quindi non solo A livello lombardo Ma nazionale Perché Sono 3780 I contagiati In tutto il paese Mentre Ieri erano 3987 Sono 200 in meno Ma sono sempre 200 I morti sono 601 Mentre ieri erano 651 La voce Prima dicevamo Ma gente come il nostro amico Leonardo Dove sono In che voce sono Sono nella voce Isolamento domiciliare Vi faccio vedere La cartina italiana Attualmente in Italia Sono 50.418 positivi E 26.522 In isolamento domiciliare Presumo siano questi In isolamento domiciliare Quelli che non sono accertati positivi Ma sono a casa Credo che siano quelli Però anche quelli È una cosa che va chiarita Perché non è ben chiara Corretto? Cioè io non Non so se quelli In isolamento domiciliare Fanno parte dei positivi O sono altri Tu l'hai capito? No Non l'ho capito neanch'io Questo è un altro dato Da chiarire Perché in realtà Anche dei positivi Non vengono ricoverati Ma vengono messi In isolamento domiciliare In realtà Perché non hanno necessità Non hanno necessità Di ricovero Ma quelli dell'inizio Ah beh Cioè che le rimandano indietro No 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 Non avendo Cioè fai il tampone Ma non lo fanno più A nessuno il tampone Eh ho capito Poi quando esci Dove ti mandano? Cioè se tu vai all'ospedale Ti fanno il tampone Ah ecco Ti fanno un tampone Sì Il dimesso Esatto I dimessi Penso che debbano comunque fare Ad esempio Isolamento domiciliare Per un tot di tempo Tant'è vero Che ci sono delle strutture Che stanno nascendo Per far fare proprio questo Certo Va bene Allora ci informiamo bene Sulla lettura dei dati Per venerdì Cerchiamo di darvi Dei dati più precisi Su questo E anche sul fatto Da cui siamo partiti Cioè che ci sono Meno Positivi Ma anche meno tamponi Quindi cerchiamo di dare Un dato più Percentualmente più corretto Perché noi vogliamo Darle informazioni precise E non Poi dopo Se riusciamo anche a capire Cosa chiude Cosa apre Così facciamo noi Il call center Sei d'accordo? Sì assolutamente Ma la cosa più importante Secondo me È che io Mi auguro Spero E prego Di arrivare qua Venerdì E di avere dei dati Che sono diversi Da quelli che abbiamo avuto Fino adesso Cioè invece di 1.500 Avere magari un mille Avere meno Perché in realtà Da quello che ci diceva Gallera Non mi ricordo se ieri O l'altro ieri O addirittura venerdì Martedì Cioè domani È il giorno X Che in teoria Dovrebbe Dovrebbe Far capire Quanto Che le misure Sono servite Sono state utili O meno le misure Che abbiamo cominciato A prendere Nel decreto Dell'8 marzo Va bene Speriamo Speriamo Però voi State a casa Facciamolo sempre Allora il nostro hashtag Qual era Jacopo? La paura La paura È una risorsa Il panico È un ostacolo Un ostacolo Sì E poi Dobbiamo chiudere Sempre dicendo State a casa Dillo tu State a casa State a casa Tutti e due Abbiamo anche un altro Brava State a casa Mi raccomando Vi prego Che forse Qualche piccolo risultato C'è Ci vediamo venerdì Buonanotte Grazie Grazie Grazie